Mercato Bello è una delle altre realtà che Costello Bello ospita, a differenza di tanti altri mercati che ci sono, le ragazze che lo organizzano cercano di avere comunque dei contributi che sono veramente minimi che si trasmettono nella questione della comunicazione o di altro e devo dire che è una delle domeniche più riuscite che durante il mese facciamo proprio perché l'ospite e lo stello è incuriosito a quello che succede, i milanesi vengono proposte cose interessanti, il Stello Bello diventa anche una vetrina per gente che fa, quindi è un po' come rispecchiarci anche noi in gente che sta provando a realizzarsi con la serigrafia come con altre cose e questo ci permette di... questi sono invece i momenti più belli, queste foto che vedete sono i nostri pranzi e cene di Natale con le famiglie, sono i momenti più assurdi perché vi posso immaginare mia madre che aveva fatto le orecchiette che prova a spiegare ai tre cinesi cos'erano le orecchiette e come si cucinano, mia madre è a Milano e quindi fortunati noi che ce le fa. Questa ve la spiego dopo. Per ritornare al discorso eventi, la cosa più difficile in questo momento è riuscire a essere cattivi, cioè l'essere cattivi è nessuno, almeno io non ho studiato per organizzare concerti o altre robe, non mi interessa neanche stare lì a ascoltarmi mille cd di musica che mi arrivano via mail con gli altri, poi il problema adesso e lo step successivo è quello di essere un po' più cattivi, quando uso il termine cattivo è riuscire anche a dire dei no, il problema diventa un po' problematico dire no e bisogna trovare un po' l'escamotage, il modo più carino e più dolce, più edulcorante per dire no guarda effettivamente i tuoi quadri mi fanno cagare, perché capita anche, o anche chi si propone di suonare perché magari il concerto di metal rock o di elettronica pum pum pum, nell'ostello non c'entra proprio, quindi riuscire a creare un mood. quello che stiamo cercando di fare un po' quest'anno è stato un po' un anno sperimentale e far sì che i primi giorni della settimana diventino un po' dei giorni di riferimento per cui il lunedì nel futuro prossimo diventerà, visto che a Milano città europea, mega così live, ce ne sono pochissimi, se non è i mega concerti, quei soliti tre posti di mega gruppi ma il live, almeno chi come me Carlo è stato a Buenos Aires, ogni giorno c'è un concerto anche più di uno in qualsiasi posto, c'è l'imbarazzo da scelta, oppure la GDC a Londra che figa, però a Londra i concerti alle sette e mezza ci vanno tranquillamente, a Milano se non è mezzanotte, no è presto. Quindi quello che stiamo cercando è di far sì che il lunedì diventi lunedì dei live, quindi poter fare un parcoscenico che sia per tutti quanti il più possibile, magari cercando in futuro uno sponsor che aiuti a dare quei gettoni e poter dare qualcosa, perché comunque anche far musica è una forma di reddito per chi lo fa e magari chi ci crede. Il martedì farò diventare il giorno culturale per cui la presentazione di libri o qualsiasi altra cosa che abbia un tema culturale e il mercoledì qualcosa più legato al cinema. Altra cosa che è diventata l'ostello proprio per l'accessibilità, per l'aspetto friendly, ambiente casa, è che tutti vogliono festeggiare lauree e compleanni da noi. Questa è diventata, quindi sono diventati dei mastri tortai, bravissimi perché sforniamo torte di compleanno e la gente vuole fare gara per venire a festeggiare l'ostello che a noi fa onestamente anche molto piacere che qualcuno abbia voglia di festeggiare da noi. Quella che vedete adesso, e qui introduciamo, magari poi richiamerei Carlo che è il referente anche per la questione poi proprio ostello e organizzazione del staff e tutto, questa era stata la prima riunione che abbiamo fatto il primo dicembre giusto dell'anno scorso ed è stata la prima volta che ci siamo riusciti a fermare ed è forse l'unico giorno che abbiamo chiuso l'ostello da agosto del 2011 ad oggi. Proprio perché avevamo il bisogno di fermarci un attimo e capire dove stavamo andando perché eravamo aumentati, stavamo costruendo qualcosa, eravamo molto contenti ma sicuramente c'era un attimo da dare uno stop. E quello che il risultato di questa riunione è stato poi questo, perché sono stati ore e un giorno intero a parlare e a vedere come poter andare avanti. Vuoi introdurre tutto un po' l'organizzazione dell'ostello? Molto velocemente. Sì, molto velocemente. Allora, i problemi, se voi aprite un ostello, i problemi che incontrerete per quanto riguarda il personale, fondamentalmente sono due. Il primo è il fatto di non avere, è molto difficile che voi troviate personale qualificato, perché è molto difficile che tu in Italia possa trovare qualcuno che abbia esperienza in ostello. È il dato statistico che lo dice. Quanti hanno lavorato in ostello in Italia? Sinceramente penso che siamo nell'ordine delle centinaia di persone, non di più. La cosa ancora più difficile dopo è invece il come rapportarti con, perché lì in un ostello sembra essere una casa, sembra essere una famiglia, però ciò che noi non volevamo era, noi non volevamo l'associazione, noi facciamo impresa, noi non vogliamo, si decide per alzata di mano. E qui c'è dentro gente che si è indebitata per 15 anni. Tu devi lavorare, tu devi fare quello che ti viene chiesto di fare. Ah, secondo me? No, secondo me no. È ovvio che c'è un secondo me, se fai questo tipo di lavoro, tu hai questo tipo di approccio, non sei il perfetto stronzo. Spero che essendoci sconosciuti a stamattina l'idea che abbiamo dato non è quella proprio dei cattivoni, però comunque tu devi arginare, tu devi far capire che ci sono dei ruoli. C'è chi ha le redini della cosa e c'è chi no. E non c'è niente di male in questo. Però bisogna riconoscere dei ruoli. E in una situazione come quella dell'ostello è difficile. Perché è difficile? Perché siamo sempre lì, si scherza tutti insieme, il bar è a disposizione di tutti in orario di lavoro o non di lavoro, chiunque può andare lì a prendersi una birra o due birre o tre birre. È anche promiscua la situazione con chi lavora. Infatti la cosa che abbiamo fatto ultimamente è stata quella di mettere dei quadri medi. Perché eravamo 23 persone a lavorare, ci hanno i tre, e poi tutti gli altri 20. E come fai allora con gli altri 20. Perché poi risulti sempre, sei tu il cattivo, sei tu lo stronzo, bisognava mettere dei livelli medi. E noi li abbiamo messi. Mettendo una ragazza di 25 anni a fare la caporeception e invece mettere Coso, che era il giovane, abbiamo chiamato Coso un po' ispirandoci a Boris. Comunque il modo migliore per togliere dignità a una persona è togliergli il nome fondamentalmente. Allora lui era Coso. Senti Coso vieni qua, Coso. E ho detto sinceramente poi Coso adesso è il direttore di Ostello Bello. Coso è una persona per la quale noi stravediamo, gli vogliamo un bene dell'anima di lavorare con questo ragazzino. Ha 21 anni però è veramente in gamba e adesso fa il direttore di Ostello Bello. Quindi la responsabilità è sua, perché poi c'è anche un problema di... Di chi è che ha fatto questa cosa? Ma no, io no, io no, io no. Anche perché per far lavorare meglio le persone dentro, dentro Ostello, non diamo i turni fissi. Non è che la mattina ci sono questi due, il pomeriggio sono quei due. No, decidete voi quando. I turni liberi, hai bisogno delle cose, cambia, non c'è problema. Però proprio in virtù di quello tu devi capire a chi devi addebitare uno sbaglio o meno, ma non per punirlo, semplicemente per metterlo in condizioni di capire perché ha sbagliato. Quindi la questione dei livelli medi è molto importante. Nel momento in cui voi avete un ambiente lavorativo, dovete dirigere comunque un ambiente lavorativo dove ci sono diverse persone e soprattutto messe in una situazione che definire promiscua è riduttivo. Altre cose da dire sul lavoro, penso prima alle odette, l'impostazione che noi abbiamo è quella attualmente siamo, dovremmo essere in 15 a tempo indeterminato, 3 apprendisti, 2 a progetto e 3 occasionali. Penso che siano delle proporzioni che raramente possiate trovare in altre imprese qui in Italia. Io ce l'ho a morte con RCS, ma voi andate a vedere come si comporta i propri lavoratori, uno dei nostri soci è giornalista per RCS, è mandato come inviato per una partita di rugby in Inghilterra, lui si è pagato l'aereo, si è pagato da dormire lì e ha detto sì te li diamo fra 180 giorni. Ma come fra 180 giorni? Cioè una questione di dignità, io mi sentirei una merda a comportarmi in questo modo nei confronti di una persona che lavora per noi. Quindi il problema è che in ogni caso mettetevelo in testa, comunque voi risulterete sempre datori di lavoro e quindi le lamentele ve le beccate comunque. Fa male soprattutto quando uno pensa di dare tanto, 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 però anche lì sta nei ruoli. Esattamente come il dipendente deve capire che c'è un capo, esattamente il capo deve capire che per quanto bene si possa comportare comunque lui capo rimane lo stesso. Quindi mettetevi il cuore in pace, le lamentere o un po' di scontentezza addosso, la sentirete comunque. Farei l'ultima carrellata di foto che vengono un po' le idee e poi passerei un attimo a voi, nel senso che approfittare l'abbiamo fatto un po' in modo informale fuori, però magari ci sono cose che possiamo condividere tutti quanti insieme, anche perché noi ad esempio è una cosa che non ci dimentichiamo mai di fare quotidianamente in ostello ai nostri ospiti e chiedere consiglio, perché cerchiamo comunque di continuare a viaggiare, continuare a vivere l'ostello, come diceva Carlo prima, come guest, perché siamo noi, il nostro riferimento è tutto, però non ci dimentichiamo mai di chiedere quotidianamente se c'è qualche consiglio, qualcosa che non dava e tutto, non per mancanza di sicurezza, ma proprio perché si può sempre andare avanti e migliorare, magari ci sono delle cose o delle intuizioni che qualcuno ha visto in un altro ostello e tutto, perché vediamo anche di amici che lavorano in un altro ostello e che sono venuti da noi, hanno visto le cose da incoppiate, le stanno facendo nei loro ostelli e per cui poi magari finiscono anche sui giornali perché hanno passato settimane e settimane in ostello bello e però ben venga, cioè noi siamo per la concorrenza leale, anche perché per noi Milano che stanno aprendo un nuovo ostello che si chiama Gogol, gli abbiamo subito mandato i nostri grossi auguri perché chi sta facendo questo progetto lo sta facendo comunque in regola, lo sta facendo bene e quindi una città che si è in piedi ostelli come abbiamo accennato stamattina e oggi è un gesto rivoluzionario per cui essere partecipato a questo gesto rivoluzionario con altre persone per noi è orgoglio questo è il guestbook che quotidianamente viene riempito dai nostri ospiti con cose più assurde più simpatiche, cosa che facciamo lo togliamo alle 7 di sera perché magari poi c'è il milanese e ci scrive le cavolate una cosina piccolina che mi è venuta in mente guardando quel coso del guestbook noi all'interno dei forms che facciamo compilare ogni giorno c'è un campo che è favorite song io trovo molto carino ogni tanto quando appunto parli dell'enorme patrimonio umano che hai la sera, magari quando stai chiudendo eccetera così prendi e guardi tutte le canzoni preferite di chi è sopra perché spesso poi la canzone preferita dà l'idea anche delle persone che stanno sopra io trovo molto, ogni tanto devo dire la verità, molto tenero anche il fatto di poter pensare a tutti quei ragazzi e quelle ragazze che dormono su e cosa stai facendo perché tu fondamentalmente stai ospitando gente che viaggia con i loro sogni con le loro debolezze, con le loro speranze con le loro allegrie anche ed è insomma qualcosa di molto, a me piace molto mettermi lì a guardare le canzoni ogni tanto ci sono delle vaccate che ascoltano sti qua però mi è venuto in mente per il lì c'era una ragazza che aveva messo l'epoca Boots of Spanish Leather di Bob Dylan che era una canzone che ho detto io non avevo mai letto il testo però visto che la ragazza era molto simpatica ho detto ma andiamo a vedere e non dico che aver avuto una rivelazione però ho scoperto uno dei testi di canzoni che attualmente più mi piace e niente, è carino perché anche questo senza dirsi niente però c'è uno scambio avviene qualcosa e devi saperlo prendere devi saperlo prendere noi diamo qualcosa e penso che i ragazzi ne possano approfittare però anche noi ne approfittiamo tanto di quello che di tutti insomma quei piccoli esseri umani che ospitiamo sopra i nostri letti ed è un motivo per cui dice questo è proprio un bel lavoro vogliamo continuare a farlo farne altri eccetera è una dimensione diversa può fare anche un altro un altro lavoro tipo questo o meglio noi abbiamo avuto delle degli amici delle amiche che arrivano dal teatro dal documentario e tutto che avevano voglia di raccontare attraverso un esperimento di docu fiction docu sitcom diciamo una forma che in realtà è ancora un po' astratta non si è ancora ben capito cosa ne sarà però ci hanno seguito per mesi dall'inizio della nostra avventura quindi anche passando le notti con noi tutto per conoscere un po' noi come personaggi e queste vedete sono le foto di noi in versione attori in realtà le citavamo noi stessi un po' enfatizzando delle caratterizzazioni chiaramente è tutto un po' sul sul comico però questa è un po' l'idea anche di allargare gli orizzonti e pensare anche a raccontare un po' l'ostello magari in altri in altri modi no? trovare delle nuove sempre forme nuove di comunicazione per raccontarci qui siamo io e Carlo la prima volta che siamo andati a Dublino come vedete non eravamo molto seri perché era la nostra prima volta e non ci immaginavamo cosa stavamo andando a fare siamo arrivati in questi due giorni di Hostel World a Dublino in cui tutti erano normalissimi poi si è andata la cena di gran gala noi pensavamo che rimanessero uguali invece si erano tutti cambiati erano tutti giacche e cravate tutti pronti e noi in realtà eravamo così e non ci eravamo neanche accorti che ci avevamo chiamato non avevamo visto il nostro nome premiato però era la prima volta che andavamo e era il secondo premio che mi aveva dato e siamo tutti stati richiamati all'ordine a un certo punto per fare la foto il duro lavoro premia questi sono alcuni dei dei premi tenendo conto che ecco noi ci giochiamo poi molto anche perché come diceva Carlo non bisogna mai prendere troppo sul serio oppure stare attenti alle review e vivere e essere un po' a volte anche vittime inconsapevoli di un certo meccanismo è vero che fanno parte dell'attività e che i premi questi premi aiutano molto a comunicare il fatto di essere una buona struttura e quindi poter avere sempre di più clientela noi siamo stati a comprare apposta i vestiti per fare questa foto sono talmente pazzi che abbiamo comprato i vestiti apposta per dire no perché il premio qui si legge magari poco ma era best atmosphere e quindi infatti il premio poi dell'anno visto che il best atmosphere è finito nel nuova vasca dei pesci nell'acquario almeno si poteva un po' rire questa cosa questo è uno degli ultimi commenti scritto sul gas dei gas sul a Milano per vivere bisogna percorre grandi spazi qui c'è buona parte del mondo su due piani e questo adesso lo cerco però intanto se questo se lo posso anche non so dove sia però a voi ragazzi la parola poi noi vi abbiamo un po' presentato quello che abbiamo fatto senza troppe parlare ciao a tutti sono francesco la vostra storia diciamo io e Claudio ci rispecchiamo molto perché qui manca un altro ragazzo Vito io ho vissuto dieci anni a Milano sono bocconiano e ho lasciato il mio lavoro a tempo determinato per tornare giù e stiamo ristrutturando un palazzo antico nel centro storico di Lecce per farne una struttura ricettiva adesso come dicevate prima stamattina vi ho seguito in streaming se si si funziona i numerosi vincoli burocratici e non che abbiamo adesso ci impongono di capire un po' la destinazione della struttura quindi la domanda che volevo farvi adesso immedesimandovi in quello che voi avete vissuto e guardando un po' vostra storia il momento in cui avete detto no non ce la possiamo fare e quello in cui invece avete capito veramente che ce l'avevate fatta allora il momento in cui no non ce la possiamo fare per fortuna è stato un momento che più o meno è capitato per stanchezza magari uno dei tre se voi avete avete mai visto il film L'Odio? sì ecco il film L'Odio è scusate perché faccio una reazione cinematografica il film L'Odio è un po' l'ABC del cinema perché questi qua si vengono presentati in un modo però la caratteristica del film che sono tre e non sono mai completamente da sole sono sempre due che si supportano e un altro che si stacca più o meno a noi per stanchezze varie ci sono stati momenti in cui magari uno era più affaticato e tutto però non c'è mai stato un momento almeno per quanto mi riguarda a noi penso tutte e tre in cui ci siamo detti no non ce la facciamo grandi parolacce rivolte a qualcuno a un sistema o a un qualcosa molte tazze di caffè molti scledi ce ne sono stati quello è negare li hanno raccontati per cui non credo che ci sia stato momento e il paradosso che il momento in cui abbiamo detto ci abbiamo fatto non ce ne siamo neanche accorti o meglio noi avevamo appena finito il giorno prima avevo finito io di bianconare la parte del piano terra stavamo ancora in realtà noi abbiamo aperto che avevamo la sala che avete visto all'inizio c'era un tavolo e basta in cui poi facevamo anche le cene per gli ospiti che il bar iniziava ad essere frequentato però è il 13 agosto per cui a un certo punto si è presentato questo uomo del sud Italia accompagnato dalla figlia che era qui a Milano per cercare lavoro e cercava un po' solo dormire la figlia aveva letto un articolo che avrebbe aperto l'ostello in quali là si è presentato questo noi all'inizio poi abbiamo pensato anche dopo che probabilmente non era un ospite ma probabilmente era qualcuno in borghese che era venuto a controllare cosa stava succedendo e cosa stavamo facendo partire il fatto che il primo vero ospite è stato tale Giuseppe si chiamava Salvatore che ha dormito e abbiamo detto guarda sì noi stiamo aperto ci siamo guardati fra di noi vabbè sì siamo aperti ok quindi noi ci siamo non abbiamo neanche avuto il momento penso magari è capitato qui a De Abdi di dire oh ce l'abbiamo fatto ma ne apriamo oppure mi auguro che capiti a voi puoi fermarsi un secondo guardarsi intorno e dire ah però che bravi no noi non ci abbiamo avuto quel momento cioè noi siamo partiti che avevamo all'inizio sapevamo che potevamo fare 25 posti perché stavamo aspettando il CP ma ci siamo accorti dopo una settimana che chi è che ha messo il cartello full booking cioè abbiamo avuto una parte iniziale che in realtà non ci siamo accorti forse abbiamo iniziato ad avere un po' la cognizione di causa io e lui non ci siamo neanche accorti che ci chiamavano sul palco a Dublino tanto eravamo lì e capito ancora in questo posto con no hai visto ci sono quelli del Wombaz che ci hanno salutato la gente che si applaudiva a vicenda a pacchi sulle spalle quando vinceva un premio cosa che come diceva lui immaginano invece una roba di avvocati se si guardano in Cagnesco magari è anche la cosa più buona che può succedere quindi anche lì che eravamo a Dublino io e lui eravamo in questa situazione così non ce ne siamo accorti e quindi è stato un po' il paradosso della cosa diciamo che normalmente la Digos chiude i posti fondamentalmente da noi è stato aperto dalla Digos io sono convinto che quello lì fosse un digotto perché non viene a cercare lavoro a Milano il 13 agosto con la carta d'identità fatta il giorno stesso fondamentalmente fatta il giorno prima io sono convinto che quello fosse un digotto che era venuto lì a controllare come era la cosa e ci ha aperto lui va bene il momento in cui ce l'abbiamo fatta il mio ricordo però una sera uno dei primi giorni una notte noi dormivamo sulla pedana del bar nel retro bar cioè sdraiati per terra tanto questi qua arrivavano a qualsiasi ora eccetera così e diceva forse ce l'abbiamo fatta però effettivamente non c'è mai stato un momento in cui sì ogni tanto succede la sera la sera tardi col bicchiere in mano sei un po' fattarello ti guardi intorno e dici è proprio un bel posticino questo qui e lì inizi a pensarlo occhio a Lecce perché spacca se non sbaglio lì c'è anche un problema a Lecce perché gli ostelli dovevano essere fuori dal centro storico ah ok no perché avevo visto due robe che erano interessate quindi veramente il miglior tutto il bene a voi che fate ho evitato una parola tutto il bene a voi che avete in mente di fare questa cosa sì dovrebbe essere così almeno sì 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 posso farmi una domanda in realtà una domanda su Milano cioè Milano è una città che mi affascina moltissimo ci sono state diverse volte e penso che sia una città piuttosto aperta nel senso cioè ci passa un sacco di gente da Milano c'è passato un sacco di gente nei decenni cioè tantissime immigrazioni meridionali a Milano ma non solo ci sono non so quante università ci sono fra pubbliche e private un sacco di studenti non riesco a capire voi siete milanesi vabbè avete viaggiato un sacco ma ovviamente se avete messo su questa struttura è anche perché credo che vi leghi un grande amore alla vostra città e il tentativo di coniugare la vostra esperienza e di metterla e di donarla un po' anche alla città se no non penso ma com'è possibile che a Milano chiudano i locali non ci siano tanti spazi di aggregazione vengano a mancare questa città che dovrebbe avere una dimensione europea poi all'atto pratico non ce l'ha o non sembra avercela non vi siete mai dati una spiegazione di questo guarda la la spiegazione più più facile è che Milano si è seduta cioè Milano si è seduta sotto tutti i punti di vista io che ad esempio ho iniziato la mia esperienza di giovane cittadino nei centri sociali negli anni 90 Milano era piena di centri sociali adesso ce ne sono due tre Milano era molto più vitale prima perché era anche in contrapposizione le situazioni si contrapponevano la vita notturna di Corso Como che arrivava all'Auge l'Hollywood ma anche i centri sociali il male di Milano è spesso chi non è di Milano e questo mi dispiace dirlo perché è molto più facile sentire una lamentela da chi magari a Milano è venuto a studiare ha avuto delle possibilità anche possibilità lavorative spesso però dico a me capita di lavorare anche in ambienti come la moda e mi capita di sentire gente che guadagna come guadagna una persona che lavora in un ostello bello con la differenza che chi lavora in un ostello bello grazie a Dio non cerca di vivere sopra le proprie possibilità chi viene nella moda poi lo vedi che va nel locale veste in un certo modo e tutto però si lamenta cioè non sto parlando di gente del sud no sto parlando di chi non è di Milano e spesso sono di prima lamentarsi della potenzialità di altre città come dicevo prima Barcellona Berlino e tutto però poi a Milano ci stanno e sono quelli che prima di tutto si lamentano io ti parlo adesso ti dico anche l'aspetto negativo dell'apertura ai locali cioè noi ci siamo detti fra di noi ogni tanto vorremmo essere noi a raccontare che cos'è la movida a Milano a raccontare tutto quello che dai locals è stato fatto anche in ostello cosa è stato rotto cosa è stato rovinato la disattenzione che c'è la mancanza a volte che a noi dispiace non è per fortuna sto parlando di una minima parte perché per fortuna chi viene in ostello è molto curioso però manca spesso a volte la curiosità verso l'ostello quindi più di una volta noi senza problemi stiamo in Ternuniti visto che stiamo a casa nostra io sono salito sul bancone e ho ricordato alla gente che quello era un ostello quel luogo in cui loro erano in quel momento non un locale che se vogliono dei locali Naviglia è pieno cioè noi per 2,50 euro ti assicuro preferisco godere molto in più lo spazio e vivere meglio con i miei ospiti che non stressarmi inutilmente quindi c'è anche per fortuna ripadisco stiamo parlando di una piccola percentuale però le potenzialità ci sono cioè ti dico anche i concerti infatti in ostello più di una volta sono dovuto intervenire chiedendo il silenzio ok quindi sicuramente Milano ha avuto un problema che sono un tipo di governo per 17 anni a differenza negli stessi anni città come Torino hanno avuto un'esplosione culturale un'esplosione di possibilità con anche altri errori vedi le Olimpiadi e altri però è fuori dubbio che è una città governata bene in cui un sindaco davanti alla proposta di chiudere la stazione principale di Torino la prima cosa che fa non è che ci facciamo il centro commerciale ci faremo un polo culturale a Milano l'altro sindaco nello stesso periodo storico aveva detto ci facciamo un polo commerciale perché va fatto quindi sicuramente Milano ha avuto il problema di subire anche questi anni di un certo tipo di governo è ancora peggio il fatto che sia saltato un progetto più grosso e più ambizioso perché ormai è saltato che dall'Expo no? perché è fuori dubbio almeno dal mio punto di vista della mia lettura personale è che Berlusconi aspettava di fare le sue cose l'ha fatto pre-Aquila l'ha fatto in Sardegna e tutto di far vivere in una situazione di stallo per poi mettere gli amichetti delle grandi imprese della protezione civile in caso di emergenza commissariare e prendere roba ahimè con i fatti dell'Aquila questa cosa è saltata e noi adesso ci troviamo con una gran figura di cacca che Milano farà sicuramente da qui a breve termine non avendo ancora nulla pronto e sicuramente c'è un bisogno di risveglio in realtà Milano sta cambiando insomma nell'ultimo nell'ultimo anno perché come Ostello Bello sono nate anche altre realtà anche in altri ambiti come può essere Santeria o altre situazioni che stanno un po' cambiando l'approccio che stanno proponendo è un percorso insomma è un po' più più lento ma un minimo di rispinta c'è minima sicuramente il problema è molto generale molti posti all'Italia in realtà è che molti posti sono chiusi molti posti sono fatti anche chiudere anche giustamente no? perché se tu le cose abbiamo raccontato che difficoltà abbiamo avuto noi a fare le cose fatte bene se tu per anni hai voluto fare il finto circolo arce ad un certo punto uno si accorge che non sei un almeno non prosegui quella finalità ma ne hai altre magari è anche giusto poi ci metti quando parlate di finto circolo no non ha dito nessuno non mi interessa neanche capito stare a setenziale però è un dato di fa io non ho nessun problema a indicare i fitti circoli arci ma per il semplice motivo che sono tutti per il semplice motivo che sono tutti cioè nel senso noi conosciamo sono amici ragazzi del Magnolia ad esempio però loro sono i primi che se ne rendono conto e infatti gli stessi ragazzi del Magnolia cosa hanno fatto hanno aperto un'altra cosa benissimo l'hanno fatto come SRL cioè nel senso non è che adesso la colpa poi è di chi gestisce quei circoli arci perché il primo poi è arci io lo dico sinceramente io nel 2013 io non vedo il motivo per cui debba esistere arci lo trovo un rigurgito del secolo passato però fatto sta che c'è fatto sta che comunque alcune cose buone vengono anche fatte va riconosciuto però poi quando ma io non è che debba parlare di Bitte o Magnolia io posso parlare dell'arci bellezza che è quello storico no? è vero? è vero una cippa qui per mangiare si spende il doppio che ostello bello viene trattato a pesci in faccia solo robine di plastica eh no ma tanto un circolo arci ma che cavolo vuol dire tanto un circolo arci? però il problema che c'è stato negli anni un in Italia perché questo è un discorso poi sull'Italia un eccessivo ricorso all'associazionismo non posso fare le cose fatte in questo ok lo faccio con l'associazione e questo è sì un problema culturale ma attenzione è anche un problema da un punto di vista normativo di legislazione perché se non dai altre possibilità allora uno si fa la sua associazione due robe volevo dire la prima su Expo ciò che sta ritardando mostruosamente i lavori per Expo sono le indagini antimafia eh sì perché è vero che non abbiamo avuto 22 ispezioni da quando abbiamo iniziato infatti prima dicevo la natura eversiva del nostro progetto però dopo i 22 controlli casualmente hanno iniziato a controllare anche altro dopo magari l'istituzione della commissione antimafia non voluta dal vecchio sindaco è voluta da quello nuovo però è quello che sta bloccando i lavori veri e propri attenzione è vero che la cosa è un po' cambiata a Milano però io quando ho saputo il nome dell'assessore al turismo e commercio della città di Milano ho detto ma porco Giuda fra tutti quelli è un idiota un idiota sì no ma non è che sì una persona che non ha idea ma sì ma lo posso dire senza lo posso dire senza problemi anche perché la cosa buona di essere SRL è poter dire queste cose io non chiedo i soldi a nessuno non stiamo aspettando un attimo scusa non stiamo perché è importante questo noi non è che siamo lì ad aspettare che ci arrivino i soldi da qualcuno teniti buono questo teniti buono quell'altro no noi siamo a norma su tutto quando ci chiedevano la tangente per la scala noi non l'abbiamo pagata abbiamo rifatto la scala dovendo spendere molto di più proprio per questo perché noi non dobbiamo chiedere niente a nessuno noi vogliamo fare imprenditori sul nostro territorio e abbiamo fatto tutto in regola l'attenzione ce la faranno a trovare qualcosa che non va bene ma noi ce la faremo a difenderci perché questo deve essere chiaro deve essere chiaro perché poi se no non puoi parlare non puoi dire la tua non puoi dire c'è niente e devi sempre dipendere dalla volontà di qualcun altro di un terzo e non te lo puoi permettere anche per il rispetto che devi avere per i tuoi lavoratori perché non puoi lasciarli senza lavoro da un giorno all'altro questo è il punto però nessuno in Italia pensa a questo c'è da licenziare 150 persone su 670 dipendenti RC a San Milano via boom io lo dico spesso ai nostri ragazzi ragazzi guardate che voi siete più al sicuro essere assunti da Ostello Bello SRL rispetto che a Sky siete molto più al sicuro qua però comunque e questo va bene amen lavorare in Ostello sembra comunque il lavoretto poi poco importa se a Firenze c'è quello che aveva dopo due anni di lavoro ti ritrovi a fare il manager di un Ostello con 150 e passa a posti letto con guadagno proporzionato a quello però per tornare alla risposta alla domanda scusami adesso è che è veramente è duplice è duplice la colpa sia delle amministrazioni che nostra culturalmente nostra come ragazzi come generazione poco abituata a rischiarsela e trovo che Ostello Bello sia stato anche ed era doveva essere così un esempio positivo per i più giovani per il ragazzino che passa di lì quando va al liceo e dice ma magari faccio anch'io qualcosa Asli la ragazza che sta organizzando adesso il nuovo Ostello ha detto io ho avuto l'idea ma allora ce la posso fare anch'io quando ho visto che ve l'avete fatto e cosa c'è di più gratificante di questo nessuno di noi mi ha visto in maniera egoistica quello che stavano facendo più ostelli ci sono meglio è lo racconta l'esperienza di Lisbona di Berlino di Belgrado di tutta Europa quindi è colpa nostra culturalmente e anche ovviamente colpa del legislatore che poi il legislatore provenga sempre dall'esecutivo e mai dal legislativo questo è un altro discorso perché le leggi grosse in Italia vengono fatte non dal legislatore ma dall'esecutivo sempre i decreti legge gli assessori cioè sono o ministri o sottosegretari o assessori che fanno le leggi e non devono farle loro le dovrebbe fare il Parlamento o i consigli comunali però visto che nessuno fa nulla allora poi devono operare sempre in condizione di emergenza ciao sono Vito senti su quello che tu dici credo che siamo tutti abbastanza d'accordo che c'è anche un problema culturale ed è vero anche perché qui ci sono 20 persone oggi quando abbiamo migliaia di disoccupati fuori che non non le cercano neanche queste realtà o non ascoltano neanche queste esperienze e quindi c'è un problema culturale però stamattina tu hai parlato credo del problema più importante per chi vuole fare abbiamo adesso l'esempio di questi ragazzi di Lecce che hanno lasciato il lavoro a Milano sono tornati nella loro realtà stanno cercando di aprire qualcosa e stanno cozzando probabilmente contro il problema principale cioè la criminalità burocratica che esiste in Italia perché quella è la vera criminalità non è quella che abbiamo per l'estra è legale quindi diventa difficile voi stamattina ci dicevate che alla fine siete riusciti a parlare col sindaco avete avuto delle scuse dall'assessore qui a sud è un po' più complicato è un po' più difficile raggiungere determinati personaggi a prescindere da che lato si trovino diciamo che spariscono molto spesso non li ritrovi più tu che consiglio ci daresti su questo cioè se un ente qualsiasi per qualsiasi cosa che noi volessimo aprire che possa essere uno stello o altro viene per un cavillo ci chiude o non ci fa aprire la struttura queste persone poi spariscono diventa come Asterix e Obelix che ti chiedono mille moduli ma alla fine non riusci mai a parlare con nessuno voi come ho detto prima siete riusciti poi a parlare con l'assessore e col sindaco se noi non riusciamo a fare questo cosa possiamo fare? voi dovete riuscire a essere nella condizione di noi non abbiamo chiamato il sindaco è stato il sindaco a chiamare noi perché quando finisci poi sui giornali tu inizia a dare il tuo posto anzi iniziamo a dire tutti noi abbiamo aperto dopo due anni e mezzo di lavoro due anni e mezzo di lavoro vuol dire si si trova alle nove si va avanti fino alle 11 12 di sera lavoro serio non retribuito cose eccetera innanzitutto partiamo che sia chiaro ci sentiamo fortunati per poter aver fatto questo io lo continuo a dire e non mi stancherò mai di dirlo però perché ci chiama il sindaco ci chiama il sindaco perché da quando inizia il progetto stello bello la città conosce la città sa e sto parlando di una città di un milione e mezzo di abitanti anche lì facebook come fai facebook ho capito come funziona la cosa di facebook funziona che praticamente noi sappiamo che tra i nostri fan ci sono diversi giornalisti giornalisti giovani quelli che non vengono pagati quelli che vengono tenuti per ritenere i .it o i .com non quelli che vengono pagati fior fior per un pezzo fior fior di euro per un pezzo e perché questi sono fan di Ostello Bell perché quando c'è da fare la riunione i giornalisti precari e tutta la città gli chiede 150 euro almeno per uno stonzino noi ti diamo più di 150 metri qui di metri quadri gratis cioè io sto dicendo che va il fatto di avere devi avere una visibilità e quella visibilità te la devi anche creare ovviamente c'è chi parte da una situazione di maggior fortuna e c'è chi è altra di minor fortuna ma io anche lì e continuo a dirlo al sud non è così ragazzi io per dire qualcosa di ben poco popolare a me piace poco sentirlo cioè io da quando sono entrato qua dentro che mi sento dire al sud non è così ah ma al sud non è al sud al sud noi abbiamo più opportunità io sono andato a Palermo abbiamo più potenzialità però diventa più complicato nell'ambito burocratico ma penso io penso di sì però attenzione ma lo dico per tutti questo che voglio dire voi alla fine ne siete venuti fuori questo sto dicendo che consiglio ci date appunto perché se dovesse succedere sicuramente la visibilità cioè poterti questo volevo sapere poterti giocare le tue carte in maniera tale per dire è successo questo sapete che è successo questo e attenzione quando visto che poi nessuno vuole nascondersi dietro un dito noi avevamo differenti possibilità di andare a parlare direttamente al sindaco chiamarlo non è stato fatto l'assessore non è stata chiamata da noi l'importante è che tu usi gli stessi tu vai sui giornali tu vai su facebook inizia a fare e facebook nella tua città se hai un'attività che funziona bene incide di più di un fondo di pagina su un giornale poi mi rendo conto che io non dico ah no qui al sud è anzi no state meglio no ma è esattamente la stessa cosa ce n'è uno dei motivi anche per cui se lo dico con tutto rispetto parlando però per aprire qualcosa al sud noi stiamo un po' più attenti è la criminalità organizzata nessuno vuole dire non vedere i problemi o far finta che tutto sia esattamente come a Milano si no no ma poi va sottolineato questa cosa che il discorso della visibilità è che la richiesta che veniva fatta al sindaco di risolvere una questione o alla sessione di risolvere una questione non partiva da noi cioè da parte nostra non è mai partita la richiesta perché tutti i discorsi faceva Carlo cioè sono più e migliaia di milanesi e non solo che hanno contribuito a far sì che Ostello Bello forse il luogo di tutti quanti era quel luogo che mancava ci veniva riconosciuto il pregio il difetto di fare un determinato modo determinate cose ma soprattutto la cosa di far sì che i milanesi di tutte le età si conoscessero in quel luogo e in quel luogo in quanto ancora di più difeso per ovvie ragioni e non da un punto di vista ideologico non si parlava dell'occupazione della casa che andava a difesa o della manifestazione per gli immigrati e quindi una certa parte della città poteva solidarizzare con qualcosa qua si trattava di difendere un'impresa che ha fatto le cose fatte bene e quindi ha portato a far sì che fosse la città intera ti giuro in modo trasversale perché noi siamo anche abbastanza radicati per percorsi vari nella città e in modo trasversale gente di differenti opinioni politiche di estrazione sociale e via dicendo hanno comunque preso e difeso l'ostello e questa è la cosa per noi più più importante quindi dovesse succedere qualcosa prima di arrivarci prima di tutto la gente si è affezionale al progetto e capire la bontà e del perché di far proprio un qualcosa allora vedrai che a quel punto non sarete in due o tre a dover andare avanti anche perché ti giuro anche in quel discorso lì di solidarietà appariva gente che si proponeva di farci le rilevazioni tecniche perché era architetto o aveva una certa specialistica e si proponeva di farla gratis cioè è arrivata solidarietà di quello che ti offriva di tutto oh mio cugino che lavora in Sardegna ma fa questo ti assicuro che il fatto di non sentirsi isolati ma essere partecipi di un qualcosa di generale è molto più più importante grazie ciao a tutti io mi chiamo Giussi e sono una delle società fondatrici di questo posto che si chiama The Hub quindi mi presento perché voi non vi avevo conosciuti prima sono arrivata all'ora di pranzo e diciamo non posso non fare un intervento un po' perché condivido moltissime delle cose che diciamo raccontate condividiamo anche un processo iniziale ma perché rispetto diciamo a questa incapacità o difficoltà di fare le cose al sud io ho un'altra storia diciamo e quindi ve la racconto brevissimamente io ho vissuto per sei anni a Barcellona quindi nella culla diciamo di una città cool occupandomi di spazi co-working architettura dismessa faccio l'architetto il designer e bla 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 e quando ad un certo punto ho voluto creare una cosa mia che condividevo con delle altre persone questo è stato il posto ideale parlo come diciamo regione in questo momento e noi ci abbiamo messo un anno e mezzo ad aprire questo posto non c'è mai stato un momento in cui abbiamo capito di averlo aperto perché probabilmente mentre lo dicevi forse è stato il primo momento in cui ho realizzato questa cosa e ci abbiamo messo così tanto per due motivi uno perché le persone sono state fondamentali abbiamo usato Facebook abbiamo usato tutti i canali digitali dopodiché però abbiamo incontrato 250 persone prima di aprire questa roba qui e l'incontro diciamo quando poi dissemini contamini e parli tante volte è chiaro che poi l'incontro anche con la pubblica amministrazione diventa più semplice perché quanto più si parla di te tanto più arriverai tanto più non ti si potrà ignorare poco prima di aprire a settembre abbiamo avuto una multa di 2500 euro perché qui c'erano dieci persone che ci davano una mano gratuitamente a pittare e questo non è previsto cioè non è illegale ma è fuori dalla legge nel senso che la normativa non sa come gestire questa roba qua c'è stato un momento di imbarazzo generalizzato perché neanche chi ci ha fatto la multa era conscio di come gestire con questa cosa noi abbiamo pagato quella multa perché ci sembrava giusto dopodiché c'è stata una solidarietà dalle persone che hanno occupato per prima queste poste anticipandoci dei soldi rispetto a quando poi avrebbero utilizzato lo spazio per cui come dire anche da questo punto di vista siamo stati fortunati io sono tornata dopo sei anni e non avevo diciamo in quel momento non sapevo chi fosse l'assessore al patrimonio non avevo la più paglia conoscevo diciamo per cultura generale chi era il presidente della regione chi era il comune il sindaco della città e in realtà ammetto di dover dire che l'incontro con il pubblico non è stato poi così difficile il punto è anche quanto tu ci credi noi abbiamo fatto un SRL ci siamo indevitati ci siamo messi un mutuo per fare questa roba qui e non per comprarci una casa quindi ci tengo diciamo a sostenere questa esperienza anche perché sarebbe meraviglioso se un'esperienza come questa e come quella di Ostello Bello si potesse riproporre qui a Bari e diciamo è come The Hub Bari mi verrebbe da dire che noi diciamo sarebbero degli amici profondi perché essere solitari in un posto come questo non ci fa bene ma non per la concorrenza proprio per la costruzione di visioni comuni rispetto alle cose su cui agire e basta volevo rispondere a Vito sulla questione dei problemi burocratici della pubblica amministrazione in realtà quando io mi sono dimesso i miei colleghi a Milano dicono cosa vai a fare giù che ti chiedono la tangente e tutto poi nel momento in cui io sono tornato i miei genitori sono di Lecce ma non vivono più a Lecce da tanto tempo c'era questo palazzo che era stato abbandonato da mia nonna di cui nessuno nella famiglia se ne occupava che appunto abbiamo deciso di ristrutturare ma io mi presentavo negli uffici come nessuno tutti quanti disponibili non è vero questa cosa che al su le cose non funzionano io ho trovato gente che comunque si dava da fare per aiutarmi a prescindere chi fossi c'era solo il cognome che si ricordavano magari qualcuno perché alla fine essendo un paesino sono 95.000 abitanti Lecce quindi bene o male però le cose funzionano cioè non è vero che non funzionano cioè il consiglio vero è di provarci cioè inizi a fare le cose poi ti lamenti c'è tanti miei amici qui giù che dicono vabbè non c'è lavoro non c'è cosa si dice vabbè ma tu ci provi cioè siamo andati in giro nel mondo a vedere io ho vissuto sei messi a Chicago sei messi a Hong Kong ho fatto le mie esperienze e poi ho detto vabbè io voglio realizzare qualcosa che mi dia un senso della vita però a prescindere cioè quando vediamo provaci a farlo quindi le cose si possono fare secondo me basta credere poi sicuramente fra tante realtà ci sono anche molte positive noi qui nel sud Italia lo dirò sempre abbiamo molte più chance di chi sta al nord quindi questo io ne sono convinto ha parlato prima di solidarietà qui da noi ce n'è quante ne vuoi di solidarietà c'è tanta brava gente che sicuramente ti è vicino ti sostiene e lo farà sempre però dobbiamo anche saperci difendere e quindi essere qui per sentire le loro esperienze che quando ci accade qualcosa cosa possiamo fare cosa dovremmo fare abbiamo sentito la loro esperienza adesso l'altra esperienza qui però guarda è passato un anno e mezzo sono passati due anni e mezzo in questi due anni e mezzo quanti soldi hanno perso e quindi esatto esatto cioè dobbiamo dobbiamo trovare il modo di risolvere gradualmente noi da parte nostra impegnandoci lavorando però sapendoci anche difendere il senso della mia richiesta era questo sì 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 infatti io volevo appunto una risposta su quello c'è lei c'è lei l'ho vista l'ho vista l'ho vista l'ho vista l'ho vista l'ho vista ciao da quello che avete detto precedentemente si è vinto che c'è comunque uno stile sostenibile nell'ostello volevo chiedervi se a livello proprio di pratiche quotidiane raccolta differenziata anche recupero delle risorse fate qualcosa in particolare e soprattutto se gli ospiti vi seguono in questo appena pulito lo cale dei ciutti per tutti l'oste due s'affortunati perché in tutto e per tutto ti rendi conto quanto all'estero ci sia qualcosa che è già più intrinse che più nel DNA delle persone questo vale sia nell'attenzione dell'utilizzo della cucina comune per cui raramente trovi questo grande disordine di solito chi vive per ostelli non vive delle regole vive una forma di galateo che è quello di essere coscienti di vivere un luogo insieme non so prima a me in modo naturale quando mi è avuto il caffè mi è venuto a prendere la tazzina andare subito a lavarla perché sono abituato a vivere cucine comuni e so che dopo di me viene qualcun altro noi cerchiamo di mettere a disposizione degli strumenti per la raccolta differenziata stare molto attenti noi dopodiché il problema è quando poi vedi come prosegue quello lo step successivo che ti viene da dire vabbè quindi sicuramente abbiamo elencato prima tutte le varie attenzioni che abbiamo avuto e portato e devo dire che la fortuna è quello di avere un certo tipo di pubblico di utenza che è molto attenta l'ospite non so noi abbiamo messo i cartelli su Italia dove c'è scritto la frase qual era anche se siamo italiani qui non c'è tua mamma una cosa quindi per favore riportaci i bicchieri devo dire che all'ospite non devi starlo a dire cioè l'ospite viene e ti riporta i bicchieri i piattini è molto più più attento i milanesi si stanno abituando e per tornare un po' a un intervento di prima noi abbiamo cercato anche di rispetto al panorama milanese noi stiamo cercando di educare la gente a un modo nuovo di vivere a un modo nuovo di convivere col territorio convivere con le persone noi anche a discapito della nostra entrata di cassa noi dopo le nove non facciamo uscire fuori dallo stello perché lo stello bello è una via caratteristica ma è una via piccola quindi amplifica il rumore e ci autocensuriamo per far sì che il vicinato non abbia l'idea della classica movida che butta i bicchieri per terra come nel colonne di San Lorenzo dove tu ti ha a Barcellona a Berlino tu hai vissuto a Barcellona non hai mai visto qualcuno che si accanisce contro quello dell'Amsa che tutte le sere lava le strade delle caglie di Barcellona ecco a Milano qui si parla di sud nord Milano città del nord ci vogliono 20 vigili urbani e tutte le transene ogni sera per pulire il colonne di San Lorenzo però poi la gente dice ma io sto weekend vado a Barcellona che è più viva c'è più roba ma disgraziato cioè hai bisogno dei vigili per far pulire la strada perché se no lo mandi a cagare quello che sta pulendo la strada e nessuno risponde mai quindi questo è cioè anche la formula nuova la formula nuova è storicamente qualcuno disse fatta l'Italia la facciamo in italiana adesso fatta Milano dovremmo fare i milanesi e dobbiamo riuscire a cambiare quindi lo stello bello in questo si propone anche di mettere a disposizione un'esperienza di nuova forma di condivisione quindi di attenzione al non spreco ad esempio quello che noi mettiamo a disposizione o stello bello vende le bottiglie d'acqua ma c'è sempre una brocca lì sul bancone perché l'acqua è un bene comune è un bene di tutti quanti e quindi c'è l'acqua per chi vuole bere c'è l'acqua per la persona come la ciotola per il cane per metterci l'acqua per cui tutto quel concetto di sostenere prima di tutto deve stare in alto a testa perché se ci attacchiamo a tutte quelle che possono essere e le catalogazioni e le cose e tutto se diventano un po' come un Vangelo nella Bibbia in cui diventi un po' come l'ispettore che è venuto da noi dell'ASL con la legge dell'85 continua a guardare quella regola e non sai un attimo adattarti alle cose rifacciamo un passo indietro ancora quindi sicuramente l'adattare a quello che è la situazione sempre e anteporre delle cose che sempre sono quelle cose che tu vorresti cioè tu vorresti una strada pulita sì allora cosa facciamo allora stiamo riempiendo i posaceni il ragazzo che fa il trono di notte quando vanno via tutti avendo la sfiga di essere una via molto carina molto vera che però ha i mattoncini i sanpietrini finisce con tutti i mozziconi per terra perché la gente ha il posacene vicino poi lo butta là in fondo la cavità di fare il lancio del mozzicone all'attore americano e quindi il ragazzo di notte si mette lì i guantini cosa che noi abbiamo fatto per mesi e mesi e mesi ci mettiamo lì e puliamo la nostra strada dai mozziconi e questo è l'esempio poi inutile che gli altri colleghi che hanno locali a Milano si lamentano quando basterebbe che ogni cinque locali si mettono insieme e fanno come facciamo noi noi dopo le nove non facciamo uscire quei bicchieri ma c'è uno dei ragazzi e addirittura dopo mezzanotte due persone che sono fuori a chiedere a fare come gli steward negli stadi inglesi a far sì che tutto sia tranquillo tutto sia preciso perché basta poco basta poco per noi è una spesa perché potremmo avere una persona in meno al bar e lasciare la strada così tanto non è o sono fuori mica sono i nostri problemi no invece per noi è una spesa però è una spesa che serve ad avere un buon rapporto col vicinato il buon rapporto col vicinato fa sì che lo stello bello continua a essere aperto come posto quindi rimanendo aperto garantisce degli stipendi garantisce la possibilità di programmare e vedere in là con lungimiranza un discorso di impresa partendo da una cosa molto semplice che è quella dell'autocensura perché i due euro persi oggi sono i mille euro da poter dare a una persona che lavora in un stello bello per tutto il mese ma nessuno pensa sempre a queste cose pensa sempre che sia colpa dell'altro colpa del vicino che rompe le scatole non ci permette di fare cultura non ci permette di fare di robe ma disgraziato vendi la birra a due euro e lasci tutti quanti che la buttino per terra quindi un po' di colpa sarà anche tua e non del vicino che poveretto non dorme o no? non ci vedete però il segreto di Ostello Bello perché la prima regola di Ostello Bello è che non si parla di Ostello Bello non so se qualcuno ha qualche altra curiosità da chiedergli se no direi di congedarle di ringraziarli innanzitutto per la grandissima disponibilità perché loro è stato un intervento lunghissimo molto esauriente molto un sacco di altre cose vabbè possiamo rifare e niente ci auguriamo appunto che la vostra la giornata di oggi possa essere uno spugnare talo è già stato ma sicuramente ci ha arricchito un sacco ma personalmente io magari per chiudere insomma non sono molto bravo a fare presentazioni però prima in macchina quando siamo tornati dal forno stavo parlando con Chiara la mia collaboratrice e gli altri ragazzi che avevano in macchina con me che in realtà io non so penso di avervelo detto ieri ero già stato in vostro ostello cioè non ho pernottato da voi l'anno scorso giugno sono passato da Milano per due o tre giorni perché dovevo andare a un concerto dovevo salutare i miei amici che vivono lì e perché volevo vedere l'ostello dal vivo sono entrato e in realtà la mia idea era quella di chiedere una consulenza ho parlato con una ragazza che non so la vostra receptionist voi non c'eravate quel giorno mi fa guarda di richieste come la tua ne stiamo avendo tante ma al momento i soci sono occupati ti terremo in consulenza cioè richiamaci fatti vivo io ho lasciato un mio bigliettino una visita ma ovviamente sapevo che poteva non bastare o che comunque avrei dovuto ricontattarvi io in questo senso pensavo non posso aspettarmi che mi richiamino loro con le tre miliardi di cose che avranno da fare dovrò rifarmi vivo io la mattina dopo in realtà ho avuto più tempo libero del previsto e sono ripassato e ho visto Nicola ho riconosciuto che era lui uno dei tre soci però non ho detto niente non lo so perché non l'ho fatto non so perché non mi sono proposto alle volte ho un grande faccia tosta alle volte sono abbastanza timido ma non so perché non l'ho fatto pensavo vabbè forse mi è venuto in mente non è il momento quindi quello che ho fatto è stato semplicemente mangiare infatti mi è un po' stupito il fatto che non si possa più pranzare perché magari boh me ne sarei andata e sì ma era mercoledì martedì non ricordi era in settimana e vabbè sono andato via e la storia continua perché poi a giugno c'è stata la presentazione ufficiale di laboratori dal basso di cui uno dei relatori è quel tizio là all'angolo con gli occhiali che ho conosciuto perché diciamo ha organizzato forse il primo laboratorio dal basso originale insomma non so come chiamarlo che riguarda le app imprese innovative io onestamente sono uno per quanto appassionato di tecnologia sono uno studioso ero uno studioso quindi faccio ancora fatica alle volte a mettere me in relazione con l'impresa innovativa ma tramite lui poi a questo corso ho conosciuto Walter Dabicco perché lui aveva partecipato lui ha messo su questo sito Poi con Walter ci siamo trovati quel giorno lì e diciamo sia Walter che io che altri ragazzi l'obiettivo era turismo come valorizzare il territorio l'ostello da là con Walter abbiamo parlato poi ho ribeccato Walter a Natale ah mi piacebbe chiamare i ragazzi all'ostello perché nel frattempo avevo visto che avevate organizzato qualcosa insieme quindi è stata come cioè io non so dare una spiegazione a tutto questo là dopo mi sono fatto vivo diciamo tramite il contatto di Walter forse mi sono sentito meno timido non mi andava di propormi così mi faceva piacere che ci fosse già qualcuno che vi conoscesse e da là diciamo è nato con Nicola ci siamo sentiti magari un sacco di volte e penso diciamo questo è forse il non so io mi auguro che personalmente sia il modo giusto di fare già il fatto di avervi conosciuto di avervi avuto qua di aver potuto fare questa formazione e di esserci arricchiti secondo me è già un grande passo in avanti e speriamo ci auguriamo anzi vogliamo continuare questa strada ciao sono Vincenzo ho una provocazione o anche una riflessione da condividere con tutti ascoltando la vostra storia la vostra esperienza penso che avete fatto un qualcosa di innovativo riscoprendo un qualcosa di semplice che magari in altre realtà del mondo che avete visitato è rimasto mentre qui in Europa visto che ci siamo in Borghe City l'abbiamo persa pensate che un'idea possa essere vincente se innovativa ossia se supportata da una nuova tecnologia o se effettivamente riscopre un passato che ormai abbiamo accantonato la stessa domanda mi è stata fatta un anno fa a Riccione per una tavola rotonda sul turismo quindi ero io pivello del turismo davanti a gente che il turismo l'ha inventato la riviera e l'ostello bello è il proseguo di una tradizione che l'Italia aveva che era la pensione familiare sulla riviera romagnola in cui tu andavi lì c'era la sciura la signora che era la proprietaria ma era anche la cuoca che ti conosceva ti vedeva crescere si ricordava l'anno dopo che cosa non mangiavi i tuoi genitori finirono a giocare a carte tutte le sere con gli amici con cui non c'erano ancora il cellulare però magari si facevano la telefonata di auguri per Natale e rivedevi l'anno dopo quindi hai centrato tre cose che sono tre cose che in realtà stanno in equilibrio perché uno è riscoprire un qualcosa riscoprire soprattutto qui in Italia che c'è una predisposizione noi siamo degli ostellanti nati perché se tu pensi soltanto a quando i tuoi amici passano con te magari alla casa della nonna tua nonna è la migliore ostellante che ci sia perché non li fa alzare finché non hanno mangiato il tarallo o qualcosa noi facciamo la stessa cosa è innovativo perché abbiamo parlato tutto il tempo del fatto che non usiamo più il cartaceo ma approfittiamo di essere stati fortunati ritorniamo a questa parola a essere cresciuti con i new media con le nuove forme dei social e tutto quindi cresciamo insieme e abbiamo la fortuna di essere cresciuti capendo ancora la differenza perché mi ha vissuto i due mondi quindi le nuove tecnologie e la prima qual era che mi sono dimenticato? l'innovativo è quello però quello che passa avanti però se me è un equilibrio di tutte e tre di tutte e tre le cose quando riesci a trovare l'equilibrio di queste tre cose perché i nostri percorsi sono anche quello perché la nostra natura è quello e tutto se me è trovando quell'equilibrio lì veramente azzecchi la cosa poi è chiaro che in questo caso parliamo dello stello che ha la sua natura è qualcos'altro e poi si appoggia alla tecnologia all'innovazione se parlassimo di Gnammo perché ahimè io ci parlo tutti i giorni di Gnammo essendo anche la mia compagna futura moglie in mezzo a Gnammo è chiaro che lì l'argomento tecnico tecnologico è incentrante perché è una piattaforma quindi sicuramente ci sono equilibri diversi in base all'oggetto della della questione però anche lì è innovativo il fatto di passare dal social al reale cosa che invece i social hanno trasformato il reale solo in social per cui gli amici se ne vedi più iscrivi su facebook e per te la socialità con l'amico ormai è finita Gnammo fa il contrario ad esempio grazie per la partecipazione ringraziamo in realtà non finiamo mica qui perché abbiamo un altro relatore non meno importante Giuseppe Colaci De Vitis adesso ci relazionerà qui ci relazionerà sì facciamo una paura giusto l'annuncio ci relazionerà sulla fattibilità di questo tipo di imprese sul nostro territorio per quello che è possibile dopo la giornata faticosa che avete affrontato allora il mio intervento mi dà in particolar modo sul discutere su fare un pochino di esempi sulla sulla sostenibilità sicuramente delle strutture ricettive ma in particolar modo sulla sostenibilità energetica delle strutture ricettive perché perché questo perché comunque la sostenibilità ambientale di una struttura passa anche e forse principalmente oggi dall'energetica non solo da un punto di vista come dire di marketing ma proprio da un punto di vista di gestione e principalmente di gestione dei costi ora non so bene di che cosa voi vi occupiate nella vita se qualcuno di voi gestisce una struttura non la gestisce se è un consulente non è un consulente se intende gestirlo o meno in futuro però vi dico che i costi energetici nelle strutture ricettive sono veramente elevati se non gestiti in un certo modo parto subito così vediamo di fare in fretta e vi libero perché è anche sabato pomeriggio e siete qui da stamattina e vedo dalle vostre facce che siete abbastanza provati allora stavamo dicendo perché l'attenzione al consumo energetico perché ormai è veramente innegabile che il modello energetico che si fonda sull'energia fossile quindi parliamo principalmente di carbone e petrolio è ormai fallito sia da un punto di vista energetico che da un punto di vista economico forse principalmente energetico e poi economico e questo perché perché sicuramente la domanda è in continua evoluzione è in continua evoluzione per diversi motivi perché in realtà la popolazione mondiale cresce e continua a crescere abbiamo superato i 7 miliardi il cinesino nato due anni fa che era il 7 miliardesimo lo conosciamo tutti fra le altre era anche un bambino di 6 chili quindi era imponeva la sua presenza e oltretutto continua a crescere anche la domanda energetica perché questo perché purtroppo fino ad oggi solo noi dell'occidente abbiamo avuto un forte consumo energetico abbiamo tagliato fuori tutti i paesi via di sviluppo paesi che oggi giustamente cominciano a reclamare anche la loro quota energetica pensate alla Cina e all'India che sono ormai quasi del tutto sviluppati forse più di noi però ci sono poi anche una serie di paesi specie quelli africani che hanno diritto anche loro alla loro quota energetica quindi aumenta la domanda aumenta la popolazione d'altro canto invece c'è una forte riduzione della disponibilità energetica queste non sono delle curve teoriche sono delle curve reali di estrazione delle fonti fossili petrolio e gas dai vari giacimenti nel mondo probabilmente non riuscite a leggerlo però c'è dall'Australia all'Oman alla Norvegia all'Yemen quindi ogni ogni paese che produce energia ha tracciato evidentemente un istogramma con le percentuali di estrazione e si sta vedendo che effettivamente la curva di Habert che era un fisico americano che aveva teorizzato questo già negli anni 50 si sta effettivamente realizzando cioè c'è una forte diminuzione della disponibilità qualcuno dirà sì forse non sarà proprio così dipenderà dai costi di estrazione e quant'altro però in realtà scusatemi se lo tolgo forse facciamo meglio ah per lo streaming ok non lo tolgo più scusatemi lo streaming e stavo stavo dicendo che Habert l'aveva l'aveva teorizzato aveva teorizzato una curva simile a questa e effettivamente si sta si sta verificando a che cosa porta questo l'aumento della del consumo di energia da fonti fossili evidentemente provoca un forte aumento della produzione di CO2 principalmente quella e questo sta provocando un forte innalzamento della temperatura perché a causa dell'effetto serra giusto lo ricordo prima a me poi a voi stessi poi a voi l'effetto serra altro non è se non un aumento un effetto di aumento della temperatura sulla crosta terrestre perché i gas serra schermano la fuoriuscita energetica dalla terra verso verso lo spazio e quindi aumenta è proprio una vera e propria serra la CO2 aumenta abbiamo detto tenete conto che un litro di gasolio bruciato produce circa tre chili di CO2 un chilo pensate a quanto se ne brucia durante una giornata sia da un punto di vista energetico che da un punto di vista di trasporti e questo effettivamente sta provocando un forte innalzamento della temperatura non è vero che la temperatura non aumenta la temperatura è aumentata ed è aumentata fortemente negli ultimi cento anni cento venti anni ci sono stati dei periodi in cui il trend è stato negativo quindi diminuiva però il trend complessivo negli ultimi cento anni è di un innalzamento per cui effettivamente sta aumentando la temperatura il nostro effetto cioè l'effetto della civiltà chiamiamola tra virgolette civiltà lo si vede e lo si vede sull'ambiente se qualcuno ancora ha dei dubbi nemmeno a dirlo c'è un sito tedesco ve l'ho riportato qui potete andarlo a visitare quando volete ci sono centinaia di foto che hanno monitorato i ghiacciai dell'arco alpino arco alpino sia tedesco austriaco italiano francese svizzero come potete vedere ci sono delle foto scattate negli anni novecento mille novecento mille novecento cinque novecento dieci dipende dalla foto poi la stessa foto rifatta nel duemila tenendo la stessa come dire la stessa inquadratura ed è evidente il ghiacciaio qui arrivava fino a questo punto quindi stiamo parlando di ghiacciai quindi di nevi perenni il ghiacciaio arrivava qui oggi non c'è più come potete vedere questo è solo un esempio vi ritorno a dire questo non è un altro e lo potete vedere su quel sito ce ne sono veramente centinaia di esempi come questi per cui effettivamente c'è una forte incidenza dell'attività umana sull'ambiente perché però poi ci dobbiamo preoccupare proprio nel campo civile uno potrebbe dire vabbè ci sono le industrie c'è il trasporto perché noi dovremmo preoccuparci nel campo civile per questo motivo perché effettivamente il 40% quindi 41 42% di tutta l'energia prodotta e consumata questo è un dato italiano si consuma all'interno dell'ambiente civile cioè residenziale uffici luoghi che noi frequentiamo per il lavoro per lo studio per il divertimento quindi tutto ciò che riguarda il settore civile residenziale esclusa l'industria e il trasporto all'interno di quel 41% poi questa è una suddivisione ulteriore se vedete il 57% è solo ed esclusivamente per il riscaldamento che cosa significa questo significa che abbiamo un quarto dei consumi energetici totali tenete conto che si aggirano dai 180 ai 200 megatep all'anno di cui circa 10 megatep sono solo per le strutture ricettive che cos'è questo megatep dice vabbè che mi stai dicendo un megatep sono un milione di tonnellate di petrolio equivalente tep tonnellate equivalenti di petrolio cioè è come se noi tutta l'energia che ci serve la facessimo solo col petrolio per avere una base comune per poter paragonare il consumo energetico del gas con quello dell'energia elettrica ci dobbiamo riferire ad una base comune per poter capire qual è più o meno conveniente e c'è questo tep tenete conto che una sola autobotte pesa 25 tonnellate un megatep sono 40 mila autobotti le strutture ricettive ne consumano in Italia mediamente 10-11 megatep quindi sono circa 6 mila chilometri di autobotti una davanti all'altra evidentemente non è così cioè nel senso che non tutta l'energia che si consuma all'interno delle strutture ricettive viene dal petrolio però per avere un termine di paragone stiamo parlando di questi dati ed effettivamente dobbiamo preoccuparci dell'incidenza che hanno le strutture ricettive sull'ambiente perché questo perché c'è uno stretto legame tra le strutture ricettive e il turismo e quindi l'ambiente un ambiente molto accogliente un ambiente bello un ambiente deve essere visitato cioè il turista è spinto a visitare un ambiente confortevole un ambiente bello ma il turista però è un problema per l'ambiente perché ha un forte impatto io sono rimasto abbastanza sconvolto qualche sera fa vedendo facendo un po' di zapping sono capitato su una su una trasmissione che stavano facendo su Sky sull'incidenza che ha il turismo nell'isola di Haiti e anche in Kenya poi sono andato a cercare un po' di immagini e la trasmissione diceva guardate questi sono i posti che vede il turista quindi posti veramente molto invitanti ma queste strutture per i chenioti e per gli abitanti di Haiti producono questo cioè bastava veramente c'era il il giornalista che aveva realizzato questa inchiesta che si faceva accompagnare da chenioti nelle zone limitrofe ai villaggi c'erano delle distese di rifiuti che bruciavano a cielo aperto con dei bambini e delle persone che rovistavano all'interno di questi rifiuti questo per farvi capire qual è l'incidenza che hanno le strutture ricettive sull'ambiente evidentemente questi sono dei casi eclatanti però non non dobbiamo trascurare anche i piccoli casi i piccoli le piccole strutture ricettive che possiamo avere noi in zona piuttosto che i grossi villaggi a Lecce loro mi sa che sono di Lecce qualche mese fa ho potuto vedere un progetto che se sarà realizzato veramente sarà da acqua gelida sulla schiena perché tutta la zona di Leuca dove c'è il ciolo da il ciolo verso Castrignano dovrebbero fare non ricordo adesso ma quanti migliaia di ettari tutto un villaggio turistico un mega villaggio turistico e vanno a distruggere una delle zone più belle che il Salento ha Portomigiano quello che hanno combinato a Portomigiano e che continuano a combinare con la Proto di Negell che lo stanno distruggendo in pratica per cui voglio dire questo significa il rovescio della medaglia delle strutture ricettive di questo ci si è accorti fortunatamente ci si è accorti già da tempo ci sono state una serie di conferenze di consulenze di atti firmati di accordi dall'agenda 21 fino alla carta di Rimini tutte comunque sono sicuramente ferme su un concetto che la sostenibilità e lo sviluppo sostenibile e quindi anche quello delle strutture ricettive deve passare attraverso quattro cardini sostanziali e cioè la sostenibilità economica una sostenibilità istituzionale dove per istituzionale si intende riuscire a garantire una certa stabilità del paese nella quale uno interviene principalmente è questa poi quella che oggi interessa a noi la sostenibilità ambientale e sociale cioè dobbiamo fare in modo che i proventi vengano divisi cioè che non non siano solo proventi per chi investe ma debbano restare sul territorio cose che oggi purtroppo non sta succedendo specie in Puglia perché molte volte le grosse strutture ricettive non sono realizzate da persone del luogo spesso non sono nemmeno da italiani ma questo non succede solo nelle strutture ricettive pensate a quello che è successo con il fotovoltaico e l'eolico cioè noi abbiamo avuto e ve lo dice uno attenzione io di mestiere faccio l'ingegnere avrò fatto un 200 impianti fotovoltaici fortunatamente nessuno grande cioè tutti i piccoli fotovoltaici realizzati sull'edificio su edifici industriali su edifici civili su aziende agricole ma laddove devono essere realizzati purtroppo lo scempio che è stato realizzato sulla nostra terra da chi? da investitori esteri che hanno sfruttato una possibilità che la Puglia aveva dato loro hanno inquinato sia da un punto di vista ambientale ma anche da un punto di vista proprio di rifiuti perché pensate che fra 20 anni la Puglia sarà una come dire una miniera di silicio ce l'ha aperto con tutti i pannelli fotovoltaici che abbiamo e i proventi dove vanno vanno tutti all'estero quelli sono soldi che noi versiamo quotidianamente pagandole una percentuale sulla bolletta elettrica e questi soldi vengono portati all'esterno vengono portati all'estero e vengono investiti altrove per cui voglio dire sostenibile e socio-economico significa questo cioè bisogna condividere con le persone che abitano quella zona non bisogna lasciare solo l'aspetto negativo poi bisogna usare sicuramente in maniera ottimale le risorse naturali per cui dobbiamo anche chi gestisce una struttura ricettiva deve dare l'opportunità a chi ai propri ospiti di potersi muovere in modo sostenibile come dire l'amministrazione deve creare dei percorsi dei percorsi ciclabili dei percorsi per il walking dei percorsi delle macchine elettriche di tutto ciò che è sostenibile però anche chi gestisce la struttura deve poter fare questo magari incentivando la mobilità con le bici organizzando i gruppi di persone cioè senza far muovere i propri ospiti con la propria macchina per fare delle visite per uscire la sera magari dalla struttura organizzare dei gruppi e creare questo genere di movimenti quindi questo significa sostenibile da un punto di vista di gestione da un punto di vista invece di puramente energetico è evidente che in primis bisogna limitare il consumo dell'acqua lo si può fare e vedremo poi come ma questo l'acqua oggi diventa il bene ancora più prezioso rispetto anche al petrolio sicuramente l'acqua oggi è più preziosa del petrolio tenete conto che in Africa ci sono delle popolazioni che si muovono alla ricerca dell'acqua noi ancora oggi non ce ne rendiamo conto noi oggi ancora tolleriamo e questo purtroppo è brutto da dire ma ancora noi lo tolleriamo perché nessuno sta dicendo che l'acquedotto pugliese perde il 65% dell'acqua che parte dal pertusillo per arrivare nelle nostre zone c'è parte dell'acqua parte 100 litri dalla basilicata e ne arrivano 35 a rubinetto il resto si perde quando invece purtroppo in altre parti del mondo le persone fanno decine di chilometri per prendere una brocca d'acqua e portarsela di nuovo indietro quindi questo è il primo bene da tutelare sicuramente utilizzare dei sistemi di gestione dei rifiuti all'interno delle strutture poter fare la raccolta differenziata fortunatamente la nostra generazione è molto sensibile a questo ma non è lo stesso per altre generazioni o per altre come dire per altre estrazioni sociali purtroppo non è sempre così io a me vengono i brividi quando ancora penso ritorno nell'eccese scusami se ti prema sono l'ecceso pure io per questo poi ti porto porto questo esempio quest'estate ero agli alimini c'era una signora del posto perché poi insomma l'accento il dialetto lo si riconosce specie perché è del posto che ha cambiato il bambino sulla spiaggia ha preso il pannolino l'ha buttato in acqua e con la mano faceva così per allontanarlo cioè per dire quindi bisogna creare poi anche la cultura della sostenibilità la cultura della gestione del perché uno è in un posto splendido invidiato magari da chissà quante persone poi si permette anche di fare queste cose quello che vedremo con le prossime slide sarà invece il limitare il consumo energetico e l'utilizzo delle fonti rinnovabili in realtà le fonti rinnovabili le prendiamo di striscio perché ritorno a dire pur avendo lavorato e lavorando nel campo delle rinnovabili non sono d'accordo assolutamente con come dire le decisioni che ha preso la normativa oggi c'è un decreto che molti ignorano ma è il decreto 28 del 2011 che impone sul nuovo e anche sulle grosse ristrutturazioni l'obbligo di utilizzo di fonti rinnovabili in particolari come dire in particolari condizioni in particolari percentuali non sono d'accordo su questo perché perché le fonti rinnovabili devono essere un mezzo per raggiungere il risparmio energetico ma l'obiettivo è il risparmio energetico purtroppo invece oggi c'è una normativa tecnica che non ragiona in questi termini c'è una normativa tecnica che mi dice che se i raggi solari arrivano su un pannello solare allora l'energia che io riesco a trasformare quella è energia rinnovabile se la stessa energia io con un sistema schermante con delle tende sostanzialmente che in inverno posso retrarre la faccio entrare in casa mi prendo questa energia come apporti gratuiti dal sole e risparmio e riscaldo passivamente la casa quella non è possibile considerarla come energia rinnovabile quindi non si ragiona in termini di obiettivo cioè l'obiettivo è ridurre il far bisogno e non far girare i contatori sostanzialmente sia nelle strutture ricettive ma anche nelle nostre case questa è la sostenibilità vera oggi invece ci impongono di installare delle tecnologie rinnovabili e quindi quello non è più il mezzo ma diventa il fine e questo evidentemente non è non è un concetto non dico serio ma comunque non è un modo serio di lavorare sostanzialmente ok poi a valle di questo ci sono tutti gli altri punti dalla sostenibilità della abbiamo detto della mobilità sostenibile fino all'utilizzo di prodotti a chilometro zero all'interno delle strutture l'ideale sarebbe veramente per chi gestisce le strutture ricettive avere una rete di fornitori di prodotti locali servire sul tavolo magari le marmellate fatte dalla signora Maria che ha il che ha il laboratorio vicino piuttosto che l'ortolano che coltiva i pomodori e gli ortaggi nell'orto vicino alla struttura nella quale noi ci troviamo evitare di di dare prodotti fuori stagione perché anche questi hanno un forte consumo energetico oltre che un concetto di sostenibilità abbastanza labile perché poi magari noi cosa facciamo andiamo a comprare le banane le ananas i kiwi forse no perché sono ancora fatti in Italia però li prendiamo e stiamo attenti magari che abbiano il bollino di prodotti da biologia da agricoltura biologica però non ci preoccupiamo del fatto che noi qui in Italia dove stanno le banane e gli ananas cioè stiamo attenti che siano bio però magari vengono dall'Africa e ci teniamo per buono il bollino che ci danno quindi bisognerebbe anche incentivare questo cioè il consumo di prodotti di prodotti locali e in ultimo ma non perché è meno importante è quello di informare e formare i propri ospiti nelle strutture cioè educarli sostanzialmente fortunatamente in alcune in alcune strutture ricettive lì si vede i tabelli nei bagni dove dice se vuoi che l'asciugamano venga cambiato mettilo nella doccia altrimenti appendilo e stai tranquillo questo sicuramente è una forma di informazione ok da un punto di vista energetico però da dove partire perché poi effettivamente il discorso è abbastanza ostico da dove partire sicuramente ci sono due strade la prima è che noi possiamo sfruttare che è quella di un'analisi di sistema e la possiamo sfruttare nel momento in cui dobbiamo realizzare una struttura siamo in fase preliminare capire io voglio aprire una struttura un ostello quanto mi costa energeticamente questo ostello cioè io nel mio business plan che cosa devo mettere perché poi bisogna fare anche i conti col denaro cioè alla fine poi vuoi o non vuoi da lì bisogna passare e in questo effettivamente ci aiutano questi due istituti che è l'ISTAT e l'ENEA l'ISTAT da un punto di vista di raccolta di dati l'ENEA invece dall'elaborazione dei dati stessi ai fini di ottenere poi dei risultati che possono essere utilizzati praticamente e ci sono quindi una serie di analisi condotte e di analisi di raccolta di dati dai quali noi possiamo attingere l'altra strada invece la possiamo utilizzare nel momento in cui abbiamo realizzato una struttura e quindi vogliamo efficientarla da un punto di vista energetico o addirittura ristrutturarla e quindi ristrutturarla nell'ambito energetico stesso e qui dobbiamo passare per forza attraverso un audit energetico cioè attraverso un'analisi più o meno approfondita dipende fino a che punto noi vogliamo addentrarci per poter capire quali sono i consumi energetici della struttura quali sono i consumi energetici della gestione futura della struttura stessa e capire dove poter intervenire al fine di operare un risparmio risparmio sicuramente energetico ma poi anche economico poi alla fine no? perché effettivamente ci preoccupiamo sia dell'uno aspetto che dell'altro nel primo caso da dove è partito? si parte dall'analisi delle strutture stesse io non vi li sto a leggere tutti questi dati ma giusto per farvi per darvi delle indicazioni in Italia ci sono quasi 4 milioni 800 mila posti letto divisi tra strutture hotel che sono la minoranza e strutture complementari dove per strutture complementari si intendono i bed and breakfast si intendono i villaggi turistici i camping quindi bungalow e quant'altro fitta camere e in alcuni casi anche le case le case vacanze sostanzialmente quindi tutti i posti letto che possono essere utilizzati la Puglia come è messa? la Puglia si becca il suo ventesimo cioè nel senso che sono 18 regioni più 2 più 2 isole in Italia e se fate un po' i conti stiamo lì 250 mila diviso 4 milioni e 7 4 milioni e 8 stai a 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 quindi in realtà è abbastanza allineata con le altre regioni pensate quindi quanto consumo c'è di energia nelle strutture nelle strutture ricettive nel 2011 perché era l'ultimo dato aggiornato ci sono stati in Italia 220 milioni di visitatori cioè che hanno soggiornato all'interno delle strutture ricettive quindi stiamo parlando di 4 volte la popolazione quasi nazionale il tasso di riempimento 45% medio è importante conoscerlo ed è importante conoscere quando si riempiono le strutture per poter poi capire che tipologia di energia ci serve e che costi avremo e la differenza dove sta nella particolarità della religione nelle regioni dove è forte un turismo o meglio un'ospitalità turistica abbiamo una curva che si impenna nei mesi estivi evidentemente quindi Puglia Veneto ma anche Sicilia Sardegna Emilia Romagna hanno un basso tasso di riempimento durante l'inverno poi c'è il picco un po' più piatta sono Lazio e Lombardia perché? perché qui c'è il business quindi si va negli hotel dei bed and breakfast negli ostelli quindi nelle strutture ricettive principalmente per business non solo per turismo quindi hanno dei consumi abbastanza più piatti più prevedibili sostanzialmente evidentemente da questi studi noi possiamo capire anche le tipologie di alberghi e di strutture ricettive che abbiamo in Italia e fare delle stime un valore medio per esempio è quello del postiletto per camera è 1,8 postiletto per camera significa che gli hotel e le strutture ricettive italiane sono più come dire improntate sulla camera doppia che poi magari ti vendono anche ad uso singolo però abbiamo una maggiore presenza di camere doppie analogamente possiamo capire quali sono l'incidenza a metro quadro per camera per poter fare per esempio un ristorante sappiamo che le strutture medie italiane hanno 3 metri quadri a camera quindi se ho 20 camere allora farò un ristorante da 60 metri quadri 70 metri quadri quindi questi dati ci aiutano come dicevo prima in fase di progettazione e quindi di decisione e di analisi del business plan analogamente ed è questo molto importante ci dicono anche quanto consumano mediamente in riscaldamento acqua calda sanitaria raffrescamento ed energia elettrica sempre per camera e vi dico sono dati abbastanza sono questi sono dei dati che sono stati ricavati dall'istate e manipolati dall'enea ma sono anche abbastanza coerenti cioè nel senso che gli audit energetici che abbiamo condotto dimostrano che questi dati sono effettivamente abbastanza allineati tenete conto che sono in megawattora a stanza quindi sono 3000 kilowattora a stanza un kilowattora vi costa 20 centesimi lo vedremo dopo evidentemente l'acqua calda sanitaria come vedete è sempre molto presente quindi noi la trascuriamo ma è una è un capitolo che ha un forte consumo energetico per questo poi bisognerà lavorare molto nelle strutture ricettive per poter ridurre il consumo di acqua perché se noi riusciamo a ridurre il consumo di acqua riusciremo a ridurre anche il consumo di acqua sanitaria e quindi di energia per poterla riscaldare ok analogamente abbiamo poi una divisione tra il metano per il 53% il gasolio il gpl per il 23% l'energia elettrica nel 22% e le rinnovabili ancora al 2% rinnovabili che potrebbero invece fortemente essere utilizzate sulle strutture ricettive là dove servono dove non sono ancora state fatte purtroppo invece questa è una forte guida la potete trovare sul sito dell'Enea questi dati sono stati presi da questa guida sostanzialmente ed è una guida che è stata fatta nel 2009 pubblicata nel 2010 e si chiama caratterizzazione energetica del settore alberghiero in Italia per cui in realtà i dati sono abbastanza stati schematizzati in queste poche slide che ho fatto però vi da già un'idea di quello che è il consumo energetico e di quelli che possono essere i costi di gestione energetica delle strutture ricettive da quei dati e confrontandoli con quello che è il costo tenete conto che il costo energetico energia elettrica oggi siamo intorno ai 20 centesimi per kilowatt quindi quei famosi 3.000 per 0.2 sono già 600 euro di spesa per l'acqua calda sanitaria a camera per il riscaldamento invece abbiamo dei dati diversi dipende dal combustibile che non utilizziamo principalmente se andiamo ad utilizzare metano ci conviene ancora non tantissimo però ancora conviene ci sono dei combustibili tipo le biomasse quindi pellet chip power e quant'altro che ci portano ad un forte risparmio da questo punto di vista mediamente di che cosa stiamo parlando tenete conto che una struttura di 24 stanze 3 stelle quindi medio comfort senza piscina senza spa senza altri servizi di questo tipo ha un consumo in euro perché è quello poi che lascia più il segno di metano di circa 12.000 euro all'anno e di energia elettrica di 22.000 euro quindi per darvi un'idea di che cosa stiamo parlando se raddoppiamo il numero di camere e passiamo anche ad un livello di comfort appena superiore quindi dalle 3 alle 4 stelle ammesso che il livello di comfort sia legabile al numero di stelle perché purtroppo in Italia ancora non è così uno può capitare in alberghi 4 stelle trovarsi come se in una betola è il contrario però come vedete si aumenta di molto il costo energetico ok abbiamo detto dobbiamo passare attraverso l'audit energetico è una procedura abbastanza non complessa ma abbastanza puntigliosa da poter condurre bisogna raccogliere i dati fare dei come dire dei sopralluoghi capire di che cosa si sta parlando e cercare di ricavare il consumo energetico analizzando questi dati puoi dare al gestore della struttura stessa delle indicazioni per poterla riqualificare energeticamente e quindi risparmiare dire ok tu hai questo consumo io ti propongo di fare questi interventi questi interventi ti costano x però nel tempo puoi risparmiare nella gestione e quindi il tuo investimento avrà un payback period cioè un periodo di un ritorno dell'investimento in 3, 4, 5, 10 anni dipende dall'intervento che andremo a realizzare quindi non fare solo un audit da un punto di vista energetico ma anche da un punto di vista economico cioè far capire al gestore la convenienza che può avere da un punto di vista economico nel fare questo tipo di investimento un esempio condotto non molto tempo fa è proprio questo del lo scorriamo velocemente è un audit energetico fatto all'ostello della gioventù di Santeramo non so se qualcuno di voi lo conosce dove stiamo stiamo qua giusto per farvi capire dopo un inquadramento diciamo di dove si si trova c'è una parte di analisi della struttura stessa quindi dei dati climatici del luogo in cui la struttura è collocata un'analisi dimensionale geometrica della struttura stessa quindi dei rilievi andando a rilevare se non si hanno già a disposizione ma spesso non si hanno perché sono strutture vecchie quindi fare un rilievo proprio geometrico di tutta la struttura e non solo un rilievo geometrico ma anche poi un rilievo da un punto di vista qualitativo delle strutture stesse quindi capire come sono fatti i muri come sono fatte le finestre come è fatto l'impianto termico quindi fare un'indagine approfondita al fine di ottenere i dati quanto più coerenti possibili con la realtà e quindi vedete andare proprio a vedere come sono fatte fare i calcoli delle trasmittanze insomma centrale termica e mettere in evidenza quelli che sono i punti negativi per esempio in questa centrale termica dell'ostello di Santeramo non si poteva entrare perché in inverno faceva un caldo pazzesco ma perché perché non erano coibentate tutte le tubazioni e questo portava ad un dispendio energetico almeno del 10-12% quindi già solo fare la coibentazione di quello avrebbe portato dei forti benefici energetici ed economici ok e quindi alla fine va beh lo si va a classificare gli si dice guarda che qui c'è una classe A per l'acqua calda sanitaria perché c'era un sistema di solare termico fortunatamente producevano l'acqua calda con il solare termico gli si dice quello che consuma quando uno fa vedere questo al gestore ma anche al proprietario di casa magari ha un pochino più di effetto perché dare i numeri e dice vabbè ma di che cosa stiamo parlando in questo senso invece quando tu hai una scala e vedi dove sei e capisci quanto sotto sei rispetto a quello che è il limite perché poi è indicato anche il limite quindi magari può essere veramente un forte stimolo nel realizzare una riqualificazione energetica no? e qui oltretutto poi c'era una cattiva un cattivo dimensionamento già iniziale della centrale termica perché avevano messo una caldaia che era quasi il triplo rispetto a quella che serviva cioè quella che serviva era qui e loro avevano messo una caldaia di questa potenza quindi voglio dire un dispendio energetico assoluto e alla fine gli si danno delle indicazioni qui per esempio era sostituzione degli infissi con degli infissi a venti il vetro a bassa emissione sostituzione del generatore di calore evidentemente l'abbiamo visto prima con la coibentazione di tutte quelle tubazioni e la coibentazione appunto delle tubazioni stesse per cui questo è un audit energetico che può dare delle indicazioni a valle di questo però gli si deve dire al gestore senti guarda che se tu vai a cambiare gli infissi di che cosa stiamo parlando beh vai a questo è proprio il caso specifico dello stello aveva 240 metri quadri di infissi gli si dice guarda che vai a risparmiare 1100 euro all'anno sono pochi sono molti boh vedremo se invece sostituisci il generatore di calore vai a coibentare tutto risparmierai 6.000 euro all'anno di metano e vabbè lui dirà ma quanto mi costa e allora glielo andiamo a dire diciamo guarda se tu vuoi sostituire gli infissi con quelle superfici almeno dovrai spendere 28 nel particolar modo caso veniva 28.500 euro il risparmio di 1100 euro all'anno ci vogliono 26 anni per rientrare dell'investimento non lo farà mai presentato in questi termini se invece noi gli diciamo che probabilmente questo intervento oltre ad avere un lungo periodo di ammortamento e quindi superiore a 10 anni anche la normativa stessa ci dice che non sono investimenti da fare però glielo poniamo da un punto di vista anche di comfort beh probabilmente lo accetterà per quanto riguarda la sostituzione invece del generatore di calore vedete addirittura in 4 anni di risparmio energetico riusciamo a rientrare dell'investimento stesso e quindi questo sicuramente è un intervento da fare subito anche perché apporterà da un punto di vista di sostenibilità ambientale della struttura stessa tenete conto che nella valutazione della sostenibilità ambientale delle strutture l'energetica ha un forte peso viene valutato almeno per il 54% rispetto a tutti gli altri parametri che sono la riduzione del consumo d'acqua la gestione dei rifiuti e quant'altro per cui già intervenire in questo senso si hanno degli ottimi risultati inoltre si hanno anche degli ottimi risultati dal punto di vista energetico perché evidentemente e questo è eclatante noi siamo questi nemmeno a dirlo cioè siamo gli arancioni tutte le altre curve sono i costi energetici in Europa siamo i primi cioè siamo sempre al di sopra tranne i piccoli periodi in cui la Norvegia credo che sia o la Svezia mi avvicino un attimo per leggere perché non ci vedo ah no la Spagna la Spagna ci ha appena appena superato in alcuni periodi però poi siamo sempre i primi dal punto di vista di costi energetici quindi eh? e quindi gli ultimi e quindi gli ultimi per cui capite bene cosa significa per noi italiani risparmio energetico ok ritorno a quello che stavo dicendo prima dobbiamo fare degli interventi migliorativi sì dobbiamo fare degli interventi di installazione di generatori di energia da fonti rinnovabili sì ma prima di tutto dobbiamo andare a coibentare dobbiamo passare attraverso il risparmio energetico cioè è quello l'obiettivo nostro far girare meno i contatori risparmiare perché la migliore energia è proprio il risparmio cioè quella che non consumo non devo produrre è chiaro anche a mia figlia che ha 5 anni questo concetto a noi ancora non è così chiaro probabilmente perché è evidente che se io ho un involucro edilizio che disperda energia posso buttarci dentro tutta l'acqua che voglio però alla fine disperdo e consumo che poi quell'energia mi sia data da fonti rinnovabili ok però è sempre un consumo energetico e mantengo alto il mio livello di necessità energetica se io invece ragiono in termini di risparmio energetico mi educo mi auto educo al risparmio l'utilizzo invece di fonti rinnovabili per sopperire ad una cattiva politica di risparmio energetico significa abituare le persone a continuare a consumare quindi abbiamo un consumismo anche a livello energetico ok quali sono gli interventi che possiamo che possiamo fare allora innanzitutto un primo intervento ma questo io ve lo consiglio di fare anche a casa l'ho fatto l'anno scorso e ho messo i led a posto dei faretti e l'ho visto subito a casa mia che è effettivamente così allora tenete conto di una cosa che è già un intervento di sostituzione delle semplici lampadine passare dalle lampadine ad incandescenza ad incandescenza alle lampade al risparmio energetico può portare degli ottimi risparmi se noi andiamo a considerare la sostituzione di 10 lampadine da 100 watt con 10 lampadine da 25 watt che hanno lo stesso effetto però in termini di luminosità eh attenzione se l'utilizzo perché evidentemente questo dipende molto anche dall'utilizzo qui abbiamo utilizzo ora e giorno noi riusciamo ad avere un risparmio in kilowattora che probabilmente nessuno nessuno si ricorderà mai che è di 325 kilowattora all'anno se la usiamo per un'ora e mezza le 10 lampadine ma questo ve lo ricorderete sono 65 euro all'anno risparmiati sono niente sono solo 10 lampadine pensate ad una struttura ricettiva che risparmio potrebbe fare comunque sia o una lampadina o mille il ritorno dell'investimento è di 18 mesi perché tenete conto che io ho considerato un prezzo medio di 5 euro a lampadina ma su internet ne trovate anche a 2 euro e 50 lampadina risparmio energetico oggi poi che si è superato anche il problema di dover aspettare per farle arrivare a temperatura e quindi avere la luminosità giusta oggi invece c'è l'immediatezza di questo sarebbe veramente da stupidi non fare un intervento di questo genere altro investimento che potrebbe essere fatto nelle strutture ricettive ma ritorno a dire anche nelle nostre case è quella di sostituire o di mettere le guarnizioni agli infissi esistenti sembra una stupidaggine ma già questo le guarnizioni per serramenti noi stiamo parlando di 6-7 euro per metro quadrato di infisso risparmiamo il 5-10% cioè in un anno abbiamo già risparmiato mettendo solo le guarnizioni agli infissi evitando quegli spisferi fastidiosi quindi quelle dispersioni di energia attraverso l'infisso se poi andiamo a lavorare in termini di sostituzione di vetro o mettere un ulteriore vetro su quello che abbiamo a meno che non abbiamo già degli infissi che sono altamente prestanti da un punto di vista energetico è evidente però già questo ci porta a degli ulteriori risparmi per cui sono sia quello precedente che questo degli interventi stupidi da fare lo si possono fare in mezza giornata però che portano ad un grosso risparmio energetico fare il cappotto alle strutture quindi andare a coibentare qui diciamo che il ritorno dell'investimento è superiore a 10 anni quindi potremmo avere delle difficoltà a farlo realizzare però coibentando abbiamo un forte miglioramento dell'ambiente indoor perché non abbiamo più delle superfici calde o fredde che ci irradiano quindi avremo un maggiore comfort all'interno delle stanze ed è più facile da far accettare mettendolo sotto questo aspetto per questo però bisogna dire che nelle nostre zone contrariamente a quello che molti costruttori stanno facendo e molti colleghi stanno consigliando il cappotto esterno va preso un po' con le pinze per diversi motivi primo tra tutti perché noi abbiamo un clima tendente al caldo quindi noi dobbiamo principalmente preoccuparci dei sovrariscaldamenti estivi che cosa può succedere che se noi andiamo a dimensionare male lo spessore di quel cappotto in estate il caldo ci entra dentro poi quando la sera dovrebbe uscire per raffrescare la casa si trova il cappotto all'esterno non esce più e quindi dobbiamo spendere tre volte l'energia per poter raffrescare la casa perché abbiamo creato un sovrariscaldamento quindi diciamo che questo va preso insomma un po' con le pinze forse è meglio farlo all'interno nelle nostre zone non forse sicuramente va fatto meglio all'interno con tutte le difficoltà del caso però ok consumi idrici tenete conto che nelle strutture alberghieri italiane si consumano 120 milioni di metri cubi all'anno di acqua dobbiamo risparmiare sì perché perché nelle nostre case abbiamo mediamente bisogno di 250 litri a persona al giorno mediamente tra scarichi cucina docce lavastoviglie lavanderie e quant'altro nelle strutture ricettive siamo al doppio per cui bisogna intervenire dobbiamo risparmiare acqua per forza non possiamo fare altro e dobbiamo educare al risparmio dell'acqua e io ritorno a dire una bambina di 5 anni ogni mattina o meglio ogni sera quando laviamo i denti insieme mi dice papà chiudi il rubinetto perché l'acqua si spreca perché gliel'hanno detto l'asilo e adesso lo dice a me per farvi esempio quindi chi più dei bambini dobbiamo tornare un po' bambini e prendere questa questa ingenuità sostanzialmente questo modo di fare questa convinzione dell'essere diversi da chi invece ci è abituato fino ad oggi allo spreco e questo è il concetto fondamentale lo si può fare sì ci sono degli strumenti che sono poi forse anche utilizzati in alcuni rubinetti un po' più moderni che sono dei riduttori di flusso questi qui rompono il flusso d'acqua lo picchiano con dell'aria tu hai la stessa sensazione di avere un getto grosso di acqua ma in realtà utilizzano il 40% il 50% dell'acqua si può avere oltre al 60-70% di riduzione di consumo di acqua anche un 15% di risparmio energetico perché ritorno a dire non dobbiamo andare a riscaldare quell'acqua per poter fare la doccia stiamo parlando di interventi che rientrano in meno di un anno quindi a casa metteteli lo stesso se non avete ancora una struttura ricettiva vostra se avete intenzione di fare una struttura ricettiva pensateci seriamente ok? ridurre l'acqua come si può fare ancora? beh recuperando per esempio l'acqua piovana in tutte le strutture dell'alta murgia delle campagne delle nostre campagne se uno va nelle strutture dell'800 o primi del 900 trova sempre la vasca di raccolta dell'acqua cosa che noi non abbiamo più fatto poi quest'acqua che utilizzo ne possiamo fare? tenete conto che possiamo innanzitutto irrigare se abbiamo bisogno di acqua di irrigazione ma possiamo convogliarla alla lavatrice agli scarichi dei bagni utilizzarla magari con particolari rubinetti dedicati a prendere l'acqua quando devo lavare a terra quindi fare tutti quegli utilizzi tranne l'acqua potabile evidentemente quindi poterla utilizzare in questo senso altra soluzione che si può utilizzare nelle strutture ricettive è quella di convogliare l'acqua delle docce negli scarichi dei bagni quindi si recupera e si fa due volte ok? quindi queste sicuramente sono delle soluzioni che ci portano ad una maggiore sostenibilità della struttura da un punto di vista invece energetico che cosa possiamo utilizzare? beh da un punto di vista energetico ci possiamo veramente sbizzarrire come vogliamo di produzione energetica abbiamo visto il risparmio ora quello che ci serve lo dobbiamo produrre in qualche modo lo dobbiamo produrre se riusciamo a farlo con sistemi di energia sostenibile beh allora sicuramente siamo a cavallo come si suol dire uno di questi oltre al fotovoltaico sì no no ci mancherebbe stiamo qui facciamo scusami questa qui sì le pompe sì 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 risulta sempre molto conveniente per quanto riguarda invece la prima domanda l'acqua piovana è priva di sali di per sé è acqua distillata sostanzialmente quindi può essere utilizzata tranquillamente non ha un problema deve essere solo filtrata perché evidentemente può avere delle particelle che possono bloccare i meccanismi di pompaggio e quindi deve essere filtrata ma da un punto di vista di contenuti di sali non ci sono problemi sono veramente dei contenuti bassissimi ok tant'è che quando piove sul vetro della macchina troviamo solo la sabbia spesso che ci resta perché la nostra pioggia viene dal deserto ma di calcare non ne troviamo sui nostri vetri ok se no veramente poco sistemi di cogenerazione che cosa sono questi sistemi sono delle macchine sostanzialmente sono dei motori di auto né più né meno che cosa fanno gli diamo del gas bruciano il gas come le macchine che vanno a gas quindi possono andare o a gpl o a metano il motore comincia a girare invece di collegare l'albero motore alle ruote e quindi camminare con la macchina lo colleghiamo ad un generatore elettrico e questo produce energia elettrica qual è il vantaggio che possiamo sfruttare poi l'acqua di refrigerazione del motore è come quando nella macchina noi abbiamo il radiatore per raffreddare il motore quindi quell'acqua è acqua calda e noi la andiamo ad utilizzare quindi abbiamo il doppio effetto produzione di calore e produzione di energia elettrica quindi abbiamo detto lo dobbiamo collegare ad una rete idrica e al gas e dall'altra parte ci troviamo dell'energia termica e dell'energia elettrica né più né meno poi è evidente che in base ai nostri bisogni li possiamo far funzionare o ad inseguimento si dice elettrico quindi se noi abbiamo un alto consumo elettrico li facciamo andare in priorità elettrica oppure se abbiamo un alto consumo termico lo facciamo andare in in inseguimento termico però comunque sono delle macchine che hanno un ottimo ritorno dell'investimento cioè tenete conto che sei anni è ritornato l'investimento di una macchina questa è una macchina piccola che può andare bene ad una struttura di 20 26 stanze questo credo che sia proprio il caso in cui abbiamo fatto uno studio per un albergo di 26 stanze tenete conto che prima spendeva 16.000 euro energetica dopo l'intervento ne spende 14 risparmia 2.000 euro l'anno costa 13 14.000 euro questa macchina per cui in 5 anni e mezzo 6 anni riesce a rientrare e poi può utilizzare e continuare ad utilizzare per gli anni successivi la stessa macchina e quindi risparmiare sia energeticamente che economicamente abbiamo detto prima e lo abbiamo visto nell'esempio l'ostello quello di Santeramo produceva acqua calda con un sistema solare termico ed aveva nel capitolo acqua calda classe A effettivamente così perché riusciva a produrre l'acqua calda attraverso il sole quello che si faceva prima quando si mettevano sul terrazzo i tubi a terra nelle case di campagna e si riscaldava l'acqua in questo modo sostanzialmente un esempio beh tenete conto che sei pannellini di questi stiamo parlando sempre di strutture ricettive non di quelle di casa un minimo di sei pannelli per un 15 metri quadri con un prezzo di 9.000 euro io riesco ad avere cinque anni e mezzo di ritorno dell'investimento senza alcun investimento pubblico senza alcun incentivo attenzione ma siccome questi oggi hanno degli incentivi perché esiste da gennaio il conto termico che cosa ci dice il conto termico si dice signori siccome noi abbiamo investito tanto in energia elettrica abbiamo fatto il fotovoltaico abbiamo fatto l'eolico diamo un po' anche al termico quindi adesso chi installa questi ha diritto a 170 euro a metro quadro di pannello per due anni ok quindi se andiamo a fare il caso specifico avremmo un incentivo totale di 5.000 euro più del 50% ci ritorna indietro in due anni e quindi è evidente che chi ha una struttura che ha un alto consumo di energia per produrre acqua calda sanitaria deve deve per forza mettere questi sistemi perché sono economicamente vantaggiosi e energeticamente convenienti il tempo il ritorno dell'investimento scende scende a due anni rispetto ai 5 anni che avevamo ok abbiamo quasi finito non vi preoccupate quindi questi sono gli interventi possibili almeno quelli più immediati da poter fare da un punto di vista di sostenibilità energetica delle strutture come lo dobbiamo comunicare beh lo si comunica questo probabilmente vi è stato già detto da altri interventi lo si deve comunicare perché è questo perché ha un fotte impatto oggi da un punto di vista di marketing cioè dire che la propria struttura è una struttura ecosostenibile che ha una sostenibilità ambientale che utilizza il bio che fa la raccolta differenziata almeno su una grossa parte di turisti oggi ha già forse anche quelli del nord Europa ha un forte ha un forte grip insomma da una forte immagine della propria struttura e specie noi italiani che siamo sempre stati visti come il cibo sano la dieta mediterranea le strutture belle cioè comunque dobbiamo far leva su questo fatto quindi dobbiamo cercare comunque di riqualificare energeticamente da un punto di vista di sostenibilità ambientale delle strutture stesse devono essere certificate però non sempre ma è un forte un forte incentivo questo secondo che cosa sono tre gli standard che vanno per la maggiore ISO 14001 EMAS ed Ecolabel qual è la differenza? tenete conto che la ISO 14001 è un protocollo di certificazione di processo quindi certifica tutta la struttura da un punto di vista di processo di come io gestisco di che cosa utilizzo ma non entra nello specifico del prodotto quindi si mantiene sulla gestione di tutta la struttura a valle di una certificazione di questa c'è un riconoscimento europeo che è una registrazione del marchio EMAS quindi diciamo che il marchio EMAS passa attraverso la ISO 14001 quindi io certifico ISO 14001 e poi posso chiedere il marchio EMAS che mi viene riconosciuto a valle di visite ispettive che hanno tutto il compito di verificare effettivamente se mi sono attenuto a quello che è la normativa ambientale o meno per quanto riguarda invece la certificazione del prodotto abbiamo Ecolabel vi dico anche che questo l'Ecolabel va anche per la maggiore adesso nelle strutture ricettive in particolar modo degli ostelli ci sono molti ostelli che stanno cercando di avere il riconoscimento di Ecolabel tenete conto che per poterlo ottenere poi lo vedrete nel dettaglio non so se c'è una credo che in programma di questi giorni ci sia proprio una esatto il prossimo giovedì promedigio ci sarà qualcuno che parlerà principalmente di esatto di questo al settore ricettivo io l'ho affrontato per l'ostello di Santermo che vi stavo dicendo perché aveva chiesto la certificazione è abbastanza pesante da ottenere perché c'è un manuale tecnico da seguire con tutte le indicazioni quali sono i parametri da ottenere però non è impossibile per cui probabilmente diciamo il capitolo sempre più grosso è sempre quello energetico per poterlo affrontare perché lì poi entrano in ballo degli investimenti più corposi da un punto di vista economico invece da un punto di vista gestionale uno si organizza si fa i suoi le sue checklist e quindi riesce poi a gestire la struttura ok che cosa dirvi già qualcuno lo diceva nell'ottocento ed erano sempre gli indiani che quando l'ultimo albero sarà abbattuto e l'ultimo fiume è velenato e l'ultimo pesce è pescato vi accorgerete che il denaro non si può mangiare e lo diceva gli americani che li andavano a rubare la terra sostanzialmente dobbiamo dobbiamo capirlo questo dobbiamo farci forti di questo e a costo di essere additati come i talebani tra virgolette del come dire della sostenibilità però bisogna bisogna spingere forte su questo concetto perché l'abbiamo visto non è non è più sostenibile non ci possiamo permettere di buttare il triplo del cibo che serve per sfamare tutti sulla terra quindi non ce lo possiamo permettere più non fosse altro perché sennò poi la sera quando ci guardiamo allo specchio insomma uno gli verrebbe la voglia di sputarsi in un occhio io non lo faccio perché sennò mia moglie si mette a gridare che gli sporco lo specchio però insomma è così vi ringrazio scusatemi insomma della dilungamento della particolare rappresentazione che ho fatto però erano la tecnica passa anche attraverso questo se avete dubbi sono qui domande anche se sono le 7-20 quindi già credo che vogliate andare via Giuseppe volevo chiederti questo le strutture che nascono nei centri storici sì hanno degli impedimenti dal punto di vista almeno io parlo di alcuni centri del Salento dove io stessa sto progettando una struttura hanno dei divieti per quanto riguarda il fotovoltaico per quanto riguarda il solare termico e tanti altri impedimenti dovuti all'intervento nella struttura antica cioè tipo il pavimento ingranigliato da salvare e quindi non è possibile fare non lo so un riscaldamento a pavimento collegato tutte quelle progettazioni che tu conosci bene io pure perché appunto sono un architetto e faccio questo tipo di intervento cosa si può fare in una struttura antica dove ci sono tutti questi divieti e anche questi diciamo impedimenti dal punto di vista strutturale allora ci sono comunque dei protocolli che ci aiutano in questo dei protocolli tecnici Casa Clima per esempio ha un ottimo protocollo per il recupero energetico dell'esistente in particolar modo nei centri storici si passa quindi attraverso delle tecniche particolari impianto a pavimento per dire un intervento che è stato fatto che ho seguito personalmente ti porto l'esempio giusto così come mi viene in mente è quello della chiesa di Sant'Antonio di Fasano nella quale è stato smontato il pavimento in pietra è stato fatto l'impianto a pavimento sotto e ricollocato sopra dietro autorizzazione della sovrintendenza dei beni culturali in altri casi se questo non è possibile fare bisogna trovare una soluzione tecnica certo in quei casi la riqualificazione è un po' più difficile nei centri storici per esempio alcuni la sovrintendenza per esempio quella di Bari ad Alberobello ci ha permesso di fare il fotovoltaico su un tetto piano ma che era all'interno dei trulli sostanzialmente che sono le guaine quindi ci ha permesso di fare la guaina tu non la distingui tra una guaina normale e quella fotovoltaica questo ce l'ha permesso il fotovoltaico sui cavalletti non l'avrebbe mai permesso quindi diciamo che da un punto di vista di soluzioni tecniche ci sono certo è normale che sono dei casi particolari e vanno visti caso per caso questo non significa però che non è possibile farlo perché poi anche la sovrintendenza in questi casi è molto sensibile perché la normativa stessa ci aiuta cioè se un intervento mira al risparmio energetico deve essere il contrario cioè non ci devono dire no in assoluto devono dire sì a patto quindi diciamo che partono e bisogna partire da un concetto diverso non c'è la negazione ma c'è l'autorizzazione con delle prescrizioni è evidente che non tutti i funzionari non lo sanno cioè intendono lavorare in questo senso quindi bisogna andare lì a contrattare a vedere caso per caso però ritorno a dire le soluzioni tecniche ci sono in un altro caso per esempio a Locorotondo in un centro storico c'era un tetto con delle tegole e hanno permesso il solare termico di metterlo smontando alcune tegole e facendo la serigrafia sul pannello stesso quindi abbiamo fatto una foto delle tegole che erano esistenti sono state fatte in serigrafia sul vetro e sono state riprodotte certo l'effetto non è come avere le tegole effettivamente però ce l'hanno permesso quindi voglio dire poi vanno affrontati caso per caso queste particolari condizioni quindi è relativo anche al funzionario che trovi quindi non c'è una regola di intervento no no sì 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 no purtroppo no no purtroppo è così però se uno se uno gli dobbiamo essere propositivi purtroppo noi questo dobbiamo fare dobbiamo cercare di essere propositivi certo se poi trovi il funzionario che dice no da qua non passi è come è come fare la biblioteca in centro storico e adeguarla all'antincendio è la stessa cosa cioè si hanno una serie di vincoli che poi anche la sovrintendenza ad un certo punto ti deve dare le giustificazioni giuste per dirti di no però ritorno a dire non non è sempre così cioè io li trovo abbastanza abbastanza disponibili almeno per gli interventi che ho potuto seguire è evidente che se uno va lì con l'arroganza di dire no devo fare questo lo devo fare così perché la legge mi dice questo e allora non passi se là gli vai a dire guarda io devo riqualificare questa struttura possiamo trovare una soluzione e allora probabilmente ti danno anche un po' più un po' più di soddisfazione insomma ma di che ci mancherebbe tutto taceo era tutto chiaro è la stanchezza dai vi ho vinto con la stanchezza non peraltro sicuramente va bene dai se non se non avete altre domande vi lascio andare sono argomenti un po' più particolari sicuramente quindi va bene sì ma poi sono anche qui voglio dire quindi non sempre ma almeno un paio di volte a settimana sono qua per cui eventualmente c'è bisogno voglio dire di considerare casi particolari lo possiamo vedere tranquillamente ok beh grazie grazie a voi grazie